1989 contro la Sampdoria San Siro, 1992 contro il Parma San Siro, 1993 contro il Torino Washington, 1995 contro la Sampdoria San Siro, nel 2004 contro la Lazio San Siro, nel 2011 contro l'Inter a Pechino, sono le sei supercoppe di Lega della nostra storia. Siamo qui con un sogno, la settima, l'avversario è duro, la partita è tosta, la partita è forte, la partita è importante, ma vogliamo a tutti i costi tenere viva la nostra speranza, assolutamente il più a lungo possibile, e spesso nella vita il più a lungo possibile, può significare anche dopo la partita. Lo speriamo, non azzardiamo, con noi c'è Luca Antonini, buonasera Luca. Buonasera a voi. È una finale, è una di quelle partite che insomma ti mandano l'adrenalina in circolo in un certo modo, non soltanto l'adrenalina la dobbiamo gestire, ma la dobbiamo anche assecondare e volgere a fin di bene Luca. Sì, è una partita bellissima da giocare, vedo i ragazzi carichi, hanno voglia di dimostrare tutte le loro qualità, hanno l'entusiasmo giusto, hanno dimostrato le dichiarazioni di Abate e di Montella, quindi sono carichi, hanno sicuramente voglia di portare a casa questo trofeo. La Juventus si sa, quando gioca contro le squadre italiane, va in campo a prendersela la vittoria, noi insomma dobbiamo in qualche modo costringere la Juventus a giocarsela la partita, non a prendersela. Sicuramente non giocano alla Juventus Stadium e questo secondo me è qualcosa di più facile forse per il Milan affrontare questa partita perché la Juve fuori casa non è mai come in casa, quindi speriamo, speriamo perché iniziare questo, finire questo 2016 con la vittoria della Supercoppa sarebbe una gran soddisfazione per i ragazzi. Si salutano i giocatori delle due squadre, si dicono qualcosa evidentemente che c'è da chiarire, da mettere a posto, lo fanno subito Abate e Chiellini, secondo me ci sono detti qualcosa di breve ma di sostanzioso. Ma non so cosa ci siano detti, magari ci sono insultati, scherzo. Però mi è sembrato che ci fosse qualcosa che dovessero dirsi e l'hanno risolto all'impronta. Sì, subito, subito, hanno fatto bene. Vediamo Chedira, vediamo Alexandro Chedira che era assente nella finale di Coppa Italia contro il Milan lo scorso 21 maggio a Roma, una finale di Coppa Italia che insomma, questo è l'arbitro da Mato, avrebbe potuto anche dirci bene, l'avremmo meritata. È vero, le finali non si giocano, si vincono, noi l'avevamo giocata senza buttare la palla dentro, quindi alla fine abbiamo avuto torto. Però era stata una finale beffarda, una finale crudele, tutt'altro che una finale dominata dalla Juventus. Sì, ma in tutte le partite degli ultimi due anni il Milan ha sempre dimostrato di meritare di vincere contro la Juventus e quella finale, sinceramente, il Milan meritava la vittoria e purtroppo, come hai detto te, le finali non basta giocarle ma bisogna vincerle. Abbiamo visto Higuain, Higuain qualche stagione fa a Doha era sfavorito, era sfavorito con il Napoli contro la Juventus, la Juventus era andata anche in quel caso a Doha per prendersi la Coppa e Higuain riuscì a guidare il Napoli sfavorito alla vittoria del trofeo dopo i calci di rigore. La nostra speranza è che ci possa essere una Nemesi all'incontrario, cioè che questa volta, dopo averla vinta da sfavorito... Spieghiamo, abbia la pancia piena. Questa è la nostra speranza, guarda, guarda, hai visto Buffon, Chiellini, vanno tutti a salutare i nostri, guarda Manzuki. Manzuki è un duro, è un duro, non saluta nessuno, non si è mai visto un sorriso sul suo viso, è uno che sente molto probabilmente le partite, le vuole interpretare con la cattiveria giusta senza neanche salutare gli avversari. Luca Antonini in nostra compagnia, la finale di Supercoppa Team, siamo a Doha, nello stadio principe del Qatar, la Qatar Football Association, la Feder Calcio Catariota, è presieduta dallo Sheikko Altani, quindi c'è direttamente la famiglia reale del Qatar nell'organizzazione catariota di questo evento, grande musica a inondare lo stadio, uno stadio che conosci bene Luca, perché quando nella stagione 2008-2009 uscimmo dalla Coppa UEFA, a causa del Werder Bremen, iniziamo a fare una serie di amichevole, venimmo qui a giocare contro l'Alsad, vincemmo 2-1 e tu facesti gol. Sì, è uno stadio che mi ricorda belle emozioni, comunque è uno stadio piccolo, ma sempre aggrimito di tifosi, la temperatura è perfetta, quindi aspettiamo solo che inizi la partita e auguriamoci il meglio per il nostro Milan. I nostri hanno, mi sembra, l'espressione giusta, l'espressione non fa risultato, l'espressione non alza i trofei, però è lo specchio di qualcosa, è lo specchio delle sensazioni che ci auguriamo giuste in questa partita, sentiamo adesso un po' l'inno pre-Supercoppa di Lega e poi torniamo con Luca Antonino. E' emozionante anche questa, non è la mitica musichetta della Champions, ma è emozionante anche questa. Sì, sì, è bella, è bella sentire. Poi ho visto i ragazzi del Milan carichi, carichi ma si vede dallo sguardo che sanno cosa devono fare in campo e sicuramente Montella gli ha dato i consigli giusti per affrontare la Juve, una partita sicuramente difficile perché sono la squadra la più forte del nostro campionato, però sono sicuro che i nostri daranno battaglia e dimostreranno il loro valore. Bacca e Suso mi sembravano i più concentrati, i più determinati, quelli con l'espressione più assorta, l'espressione maggiormente alla ricerca della concentrazione più cattiva e più giusta. Sì, molto probabilmente stavano già immaginando un 1-2 che porta il gol in Milan, lo spero, però li ho visti carichi. Sono i due giocatori che molto probabilmente dovranno fare la differenza per i rossoneri. Io patisco quando Buffon fa il padrone di casa, vedi che Buffon fa molto il padrone di casa, no? Questo io onestamente lo patisco molto, vorrei cambiargli le cose, cioè lui fa il padrone di casa perché dice tanto siamo più forti, vinco io, gestisco io, no, gliela vorrei cambiare. E cambiamo, gliela cambieremo durante la partita Mauro. L'arbitro D'Amato con i due capitani, Igna Ignazio Abate e Buffon per quanto riguarda la Juventus, Valeri Russo negli assistenti, il quarto uomo Arbirati, gli assistenti addizionali Valeri Russo e attualmente c'è lo staff capitanato da D'Amato dei direttori di gara di questa sfida che fa la foto di rito con i due capitani di Juventus-Milan prima di questa finale che esporta il calcio italiano a Doha, che esporta il calcio italiano in Qatar. Insomma, per un giocatore fare una finale italiana ma sulla scena internazionale è un motivo di motivazione, di prestigio e di attaccamento alla partita risultato finale in più, no? Sicuramente sì, sicuramente sì, anche se una finale in Italia molto probabilmente sarebbe più bella. Però giocare a Doha, giocare in uno stadio che non è né della Juve né del Milan all'estero è sicuramente motivo di orgoglio, un fascino maggiore, quindi una voglia maggiore di ottenere risultato grande. La Juventus è in campo con Buffon in porta, Lichsteiner, Rugani, Chiellini, Alexandro in difesa, centrocampo Chedira, Marchisio e Sturaro davanti, Pjanic, Iguain e Mandzukic hanno recuperato, Lichsteiner e Pjanic non giocano, Barzagli e Dybala nel Milan, Donnarumma in porta, Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio in difesa, Cucca, Locatelli e Bertolacci a centrocampo, Suso, Bacca e Bonaventura in attacco, partono dalla panchina almeno inizialmente, sia Niang che Lapadula. Questi è Marchisio, il nostro capitano è appunto Ignazio Abate, il vice è De Sciglio, De Sciglio che ha un po' rifiattato contro l'Atalanta, partita nella quale comunque Antolene ha giocato bene. Si va, si parte, partiti, Locatelli, palla dietro per Alessietto Romagnoli, che la gira a Gigio, Gigio non riesce a colpire al meglio il pallone, il balzo di testa di Paletta, la palla esce, la rimessa con le mani è Juventus, ecco Alexandro che va a prendersi questa palla dopo i primissimi secondi della sfida, non c'è stato un buon invio da parte nostra, ma insomma siamo solo all'inizio, Marchisio, la palla va dietro per Rugani, Rugani che sta crescendo nel Juventus, è vero che ha avuto gli infortuni, ma insomma vedere in questa squadra Rugani che viene preferito a Barzagli, per lui deve essere un particolarissimo titolo di merito, una grande soddisfazione, Marchisio apre il piattone a destra, Bonaventura si porta dalle parti di Steiner, ancora Marchisio, c'è Bertolacci che va a pressare, la palla dietro, ancora per Rugani, Rugani in verticale per Chedira, c'è Romagnoli, lo avevano sostanzialmente circondato Romagnoli, Liguaín da una parte ma Antuchici dall'altra. È stato bravo, è stato bravo, è stato bravo, ma Alessio a non far sorprendere, a guardare i due avversari, a buttar via il pallone senza rischiare. Qui una protesta di Bacca, c'è stata una palla data indietro, anche il pubblico ha rumoreggiato molto, l'abbiamo visto cadere, sembrava l'avesse spinto Rugani o Chiellino, non mi ricordo chi fosse, però qualcuno l'aveva toccato, perché sennò sarebbe dato in porta Bacca. Vediamo allora Buffon che tiene palla, mi sembra che il pubblico inizia a farsi sentire, su queste azioni ho sentito una marcata presenza milanista all'interno dello stadio di Doha. E si sentono anche i fischi quando la Juventus ha palla, quindi significa che sono più tifosi milanisti che i juventini. Manzuchic, Higuain, attenzione, Pjanic allarga il gioco, di qua per Sturaro, Sturaro vede la porta, parla Donnarumma, qui Manzuchic ha fatto la torre e ha consentito con un tocco a tutta la sua squadra di salire bene. Sì, Sturaro era posizionato lateralmente, i due attaccanti sono andati in profondità e hanno creato lo spazio appunto per Sturaro, è stato bravo Gigio a non farsi trovare impreparato. Manzuchic prima ha dato la palla di petto, adesso è andato a pressare De Sciglio, l'abbiamo gestito, adesso c'è Paletta che dialoga con Romagnoli, non c'è un gran tifo, non ci sono i cori tradizionali degli stadio italiani, c'è molto rumoreggiare a seconda delle fasi, delle situazioni che si verificano in campo, quindi un'atmosfera abbastanza irreale rispetto a quella degli stadi italiani. Paletta per Alessietto Romagnoli che allarga il pallone verso sinistra dove c'è Matti Mattia De Sciglio, vediamo De Sciglio che torna indietro, ancora Romagnoli, la palla arriva dalle parti di Gigio che va subito in verticale, decide di eludere così il possibile pressing di Manzuchic, avanza ancora Romagnoli, la palla lunga, il colpo di testa di Chedira, la palla torna indietro però, ancora nostra, Alessietto richiama in causa Gigio Donnarumma, il quale si prepara la palla sul destro e la direziona bene verso De Sciglio che non riesce a controllare al meglio. Peccato, peccato perché avevano saltato tre giocatori della Juventus e si poteva innescare un'azione offensiva importante. Sì perché c'era anche Buonaventura già in posizione di ricezione, di attesa, Chedira, Chedira fermato, forse c'era fallo da parte di Cucca, lascia correre D'Amato, Suso, Suso rischia di perdere una bruttissima palla, meno male che Marchesion riesce a giocarla subito. Alexandro, dovevamo ripartire noi per la seconda volta, non ce l'abbiamo fatta con De Sciglio, non ce l'abbiamo fatta con Suso, attenzione che arriva la Juve, Wittsteiner mette in mezzo, la palla attraversa tutta la nostra area ma finisce fuori. Sì sì, è stato bravo Ignazio qui a coprire il movimento di Guain e a lasciare passare il pallone. Due mancate ripartenze nostre, intanto qui la regia ci ripropone la giocata di Sturaro, devo dire che a livello di regia televisiva questa Supercoppa è molto meglio rispetto a quello che accadde l'anno scorso in estate a Shanghai per Juventus Lazio, e quindi da questo punto di vista meglio, anche se evidentemente sui voli aerei come sappiamo qualcosa non ha funzionato, ma non torniamoci sopra. Adesso la palla è di Lichsteiner che si era fatto male contro Romometrati, Bacca voleva arrivare su questa palla, ha creato un problema a Buffon, infatti Buffon perde la palla perché non riesce sulla pressione di Bacca a metterla dove voleva lui. È stato bravo Bacca a crederci e comunque a dar fastidio a Buffon. Desci, tocco all'indietro per Alessietto, Alessietto la gira verso Palettone che osserva e appoggia ancora, la pressa Mandzukic, ancora Desci, viene incontro Jack, Jack vuole liberarsi di Lichsteiner, finisce a terra Jack, ho preso la palla dice Lichsteiner, in realtà la smorfia di dolore di Buonaventura c'è tutta. Diciamo che ha preso prima il piede e poi forse la palla, ma prima ha preso il piede. E si vede nettamente, si è visto nettamente il piede d'appoggio, quello di destra, vediamo Palettone che gira a destra per Igna e Ignazio, Abate deve tornare indietro, Milan che ha questa azione perimetrale che serve un po' a palleggiare, a prepararsi il terreno. No perché la Juve comunque è ben messa in campo e ci copre tutte le linee di passaggio. Desciglio, vediamo Gigio, attento Gigio che arriva Mandzukic, la palla lunga di Gigio, respinge Chiellini, la palla esce però, inizia abbastanza interlocutore, abbastanza equilibrato la partita. Si stanno studiando le due squadre, soprattutto il Milan deve cercare di capire come riuscire a sfondare la difesa bianconera. Luca Antonini con noi, fallo su Bacca, calcio di punizione Milan. Abbiamo la possibilità di rivedere, il fallo è stato di Sturaro alla fine. Bacca ha subito il fallo, si è rialzato, adesso c'è il calcio di punizione nostro. Quadrato Giorgio Chiellini che è un po' fatto arrabbiare i tifosi del Milan intervenendo su alcune dichiarazioni nostre nella pre-partita, ma insomma si è mostrato sereno e conciliante negli spogliatoi di Doha nell'immediato pre-gara. Locatelli, un buon giro palla il suo, pesca bene Ignazio, Ignazio decide di andare, punta Ignazio, punta Ignazio, punta Ignazio, punta Ignazio. La deviazione di testa di Chiellini, va ancora Sturaro, ancora Lessietto, non è abbastanza lungo il suo rilancio. Vediamo chi la prende questa palla, non la prende nessuno, ma l'ha rimessa con le mani bianconera. Bravo, bravo Ignazio, ha fatto bene a puntarlo e ad andare sul fondo. Peccato per il cross un po' troppo basso, però è stato bravo, dobbiamo crederci, dobbiamo credere nelle nostre qualità. Ce l'abbiamo, ne abbiamo tante. Temperatura attorno ai 18 gradi, quindi evidentemente diversa da quella che hanno lasciato in Italia la Juventus e il Milan. Palla lunga Juve, attenzione. Attenzione Manzuchic, attenzione Manzuchic, il tiro, va Gigio a deviare in angolo, secondo squillo bianconero. Questa palla forse era destinata sull'esterno della rete, Madonna Rumma è andato comunque a deviarla. Proviamo a rivedere se cogliamo l'angolo Luca. Vediamo lo stop con il petto, lui inquadra la porta. Sì, andava sulla rete esterna. Però Manzuchic non va lasciato così libero, così da solo, di poter fare quello che vuole. Quadrato il croato. Calcio d'angolo a favore di Pjanic. Palla sulla bandierina. Quadrati, Kucca e Bacca, palla messa in mezzo, sono saltati loro. Ci sono forse ostacolati fra di loro? Sì, sì, Chiellini e non mi ricordo se Manzuchic. Comunque è un pallo laterale nostro. Vediamo. Sì, Chiellini e Manzuchic. Chiellini un falletto a Paletta l'ha fatto, e Paletta ha protestato. Rimessa con le mani Juventus, Riksteiner, Pjanic, palla all'indietro. Proprio i due infortunati Juventus-Roma sono entrati all'inizio di quest'azione. Hanno recuperato, palla a Chiellini, attenzione. Vediamo. Poi anche sul dolore, l'andare al caldo in inverno, giovano. Sì, sì, aiuta, aiuta. Aiuta tantissimo. Chiellini restituisce palla a Rugani. Ancora Marchisio. Marchisio cerca il lancio in profondità. Ah, si inserisce Sturaro, fa la tinta. Manzuchic, dobbiamo andare a chiudere il colpo di testa di Palettone. Perfeziona il disimpegno Bertolacci. Arriva Andrea Bertola, prova a scambiare con Suso. Rilancia Abate. Ci sono alcune nostre, forse fallo di bacca qui, sì. Ci sono alcune nostre linee di passaggio, quando stiamo ripartendo, che non funzionano. Cioè, quando ripartiamo, facciamo fatica a passarci il pallone. Perché la Juve è messa bene. È messa bene e quando si cerca un compagno si fa fatica a trovarlo, perché la Juve chiude tutti i spazi. Spazio è corta, è stretta. Alessandro mette in mezzo, attenzione Alessietto. Va all'inseguimento di questa palla che dira. Juventus che prova a forzare i tempi. Marchisio dà la palla in mezzo, attento Alessio. Alessio devia in angolo. Non è venuta bene questa giocata da Alessio Romano. No, voleva buttarla via, gli è rimbalzata prima di calciare. Non è semplice farlo, però l'importante è che l'abbia buttata via da una possibile azione da gol della Juve. Gli è rimbalzata sotto la suola. Sotto la suola, sì. Quadrato Gigio Donnarumma, espressione bella attenta da parte sua. Palla messa in mezzo, palettone, bravissimo, determinante. Attenzione Alessandro, il tiro, para ancora Gigio. E insomma, è soprattutto con questi tiri che la Juve inizia a farsi sentire, inizia a dare cenni importanti. Dopo Sturaro e Alessandro nello specchio della porta c'era stato il tiro di Mandzukic che sarebbe finito sull'esterno della rete, deviato comunque in angolo a Donnarumma. Attenzione Rugani, dobbiamo rispondere Luca. Eh sì, dobbiamo rispondere perché la Juve inizia a far sentire la sua pressione, inizia a giocare. Sciglio, desciglio, da palla dentro per Andrea Bertola, Andrea Bertola, salta Piani, ci vediamo Andrea Bertolacci. Allarga il gioco bene per Suso, dai di qua abate, dai di qua abate, dai di qua abate. Suso, Suso, bella palla di Suso, allontana di Steiner. C'era Bonaventura alle sue spalle, ben pensata, ben congegnata. Questa palla di Suso poi qui non favorito dal rimpallo. Kuczka, la rimessa è nostra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Così, così, bisogna far così, pressarli anche noi, non farli respirare. Suso, la palla è uscita, la rimessa con le mani è loro. Montella dà indicazioni ai suoi ragazzi, ai nostri giocatori. Dieci minuti nel primo tempo, 0 a 0 a Doha, con Alexandro sulla palla. La appoggia dietro a Rugani. Rugani avanza, testa alta, dà palla in orizzontale a Chiellini. Chiellini restituisce. Proviamo a salire, vediamo Bacca. Avanza Chiellini. Chiellini la tocca d'esterno ad Alexandro. Ancora Chiellini, anche la Juve deve tornare su Buffon. Sì, perché il Milan ha capito che deve tenere alta la difesa e di conseguenza il centrocampo. Più siamo alti, più fatica la Juve a giocare. Vediamo Rugani, che da palla in mezzo si è fatto trovare alto. Ricciteiner, dietro Pjanic, giro palla Juventus. Ancora Rugani. Durano molto le azioni, soprattutto nella fase d'avvio, sia la nostra che la loro. Sono fasi lunghe queste. Sì, sono fasi forse di studio ancora. Comunque la Juve ogni tanto si dà il tempo per infiatare, visto che comunque i primi 6-7 minuti correva dietro a tutti. Chedira non è riuscito a raggiungere Ricciteiner. Adesso c'è la rimessa con le mani a favore del Milan. Vedrato lo Svizzero, rimessa con le mani Desci. Eccolo Mattia. Si muove Bonaventura. Servito Andrea Bertolacci restituisce. Sta rientrando dal fuorigioco Bacca e quindi la palla torna di default a favore della Juventus. Vediamo Chiellini che si appoggia a sua volta a Rugani. Ancora Marchisio. Rugani possesso palla da parte della formazione bianconera. Bisogna andare a chiudere qui. Igna Ignazio per Gigio. Gigio attento, Gigio attento, Gigio attento, Gigio attento. Sul tentativo di Teckel scivolato di Sturaro. Sturaro è andato fino in fondo. Palla rimessa davanti dalla Juventus. Abate palla. Qui siamo andati per un mancato rinvio del nostro portiere. Siamo andati in defaillante. Siamo andati in ansia fino a concedere questa punizione pericolosissima alla Juventus. Adesso da lì Pjanic è molto pericoloso. Perché è vero che qui Donnarumma ha difeso palla. Però intanto è arrivato quasi a fare scacco al portiere Sturaro. E questo ha generato una serie di inconvenienti. Perché poi la Juve è riuscita a salire. E di conseguenza hanno creato questa punizione. Attenzione perché è brutta brutta. Attenzione Gigio. Attenzione Gigio. È brutta brutta Gigio. Subito un colpo paletta. Forse sangue dal naso per paletta. Sì, sangue dal naso per paletta. Vediamo Alessandro. 13 minuti di gioco nel primo tempo. Peccato perché andare così in difficoltà sul rinvio genera poi un'onda negativa. Che porta punizioni pericolosissime come questa. Attento Gigio ti prego. Vediamo. Barriera Milan. Tre giocatori Juventus. Pjanic. Pjanic prende la sua rincorsa. È uno specialista. Attenzione Gigio ti prego. Attenzione Gigio. Attenzione Gigio. Pjanic. La palla deviata. Alta fuori angolo. Bravo Kuczka. Non ti dico... Ecco hai visto la deviazione di Kuczka. Non ti dico che fosse un rigore ma quasi. Pjanic da quella posizione è un maestro. Maestro però Kuczka ha guardato sempre la palla e l'ha deviata con la testa. Bravo. Bravo. Ha avuto coraggio. Bravo Juraj. I complimenti di Luca Antonini. Calcio d'angolo Juventus. Pjanic. Attenzione. Si prepara il bosniaco a calciare dalla bandierina. Deve tornare paletta. Ci chiede qualcosa. E' rientrato paletta. Che era uscito. Attenzione. Palla messa in mezzo. Allontana il Milan. Sturaro. La schiaccia verso Alessandro. Che la riporta di là per Pjanic. Insistono loro. Colpo di testa. Andiamo a prendere la loca. Andiamo a prendere la loca. Noi in vantaggio Chiellini. Locatelli che deve ancora entrare un po' nel vivo della partita. Che adesso non dovrà far girare Chiellini. Ha girato di spalle. Devi tenerlo girato. Hai paura. Fallo. Fallo. Sul ponte aereo di Mandzukic che naturalmente protesta. C'è stato un fallo del croato ai danni di Kucca. Mandzukic che inizia subito a pressare sull'arbitro. Ha fatto fallo. Ha fatto fallo su Kucca. Ha fatto fallo su Kucca. È fallo. È fallo. Ci avviciniamo al quarto d'ora del primo tempo. Luca Antonini. Sì. È iniziata bene per la Juventus. E Milan è un po' contratto. Ancora molto probabilmente deve sbloccarsi. E speriamo lo faccia la prima possibile. Perché se no la Juve diventa pericolosa. Buffon. Pressing alto Milan. Anche Jack. Abbiamo un po' di uomini che devono entrare nel vivo della partita. È vero. Non abbiamo tenuto molto noi la palla. Ma insomma Bertolacci. Buonaventura. Lo stesso Locatelli. Ci auguriamo che la possano toccare un po' di più. E entrare sempre di più nel vivo del gioco. Desci. Desci per Jack. Jack chiuso. Intubato quasi da Lichsteiner. Ancora Locatelli. Attenzione. Attenzione. Loca. Attaccato da Manzuki. C'è in mezzo a tre Locke. Questa palla all'indietro. Questa palla all'indietro. Non va bene. Bravo Desciglio. Ha fatto un'ottima diagonale difensiva. Poi respinge alto Romagnoli. Colpo di testa Rugani. E Bertolacci in vantaggio. La deve gestire. Questa palla. Palla di Marchisio. Ben controllata. Bravo. Si è messo davanti. Si è fatto fare fallo. Quindi Andrea Bertolacci ha portato a casa questa punizione. Questo è l'intervento di Marchisio ai suoi danni. Dobbiamo avere più coraggio nell'alzarci. Alziamoci. Perché più vicini siamo all'avversario e prima gli rubiamo la palla. L'ho visto prima Adriano Gagliani. Adesso la dirigenza Juventus. Palla lunga Gigio. Poi forse il fallo di Suso. Qui sì c'era il fallo di Suso ai danni di Alexandro. Calcio di punizione loro. Chiellini. Chiellini la restituisce a Rugani. Ancora Chiellini. Milan che deve stare attento ai loro flussi di gioco. Ha provato a intervenire qui. Buonaventura. È riuscito a tenerla in campo Lichsteiner. Vuoi un pressing più alto Luca? Secondo me bisogna... In queste palle qui Milan deve avere il coraggio di alzarsi. Paletta non l'ha presa. Attenzione. Qui rischiamo. Qui rischiamo. Sturaro. Grande Gigio. E grande Gagnazzi. Paletta sta protestando perché dice sostiene di aver subito fallo. Quando è andato a vuoto sostiene di aver subito fallo perché lì è chiaro. Va a vuoto Paletta sei tre contro due e subisci l'occasione da gol. No ma gli ha fatto ponte. Questo è fallo per Paletta. Gli ha fatto ponte Manzuchic. Manzuchic è proprio questo giocatore qua. E' su queste palle sporche che lui crea i presupposti. Eh sì, è furbo, è cattivo. Calcio d'angolo Pjanic. Palla messa in mezzo. Gol della Juventus. È arrivato Chiellini. A metterla dentro. Su calcio d'angolo. Eh insomma era un momento in cui eravamo sotto pressione. E Chiellini porta in vantaggio la Juventus. Insomma ci eravamo salvati qui e sono andati in due. Sono andati in due. Noi... Era da solo Chiellini. Noi troppo lenti su questa palla. Siamo andati a chiudere troppo lenti. Erano da soli. Chiellini e Manzuchic. E' chiaro che... Chiellini soprattutto era da solo. Ha avuto il tempo di arrivare sul pallone. E' chiaro che alla fine poi ha ragione loro. Urla di rabbia Cucca. Insomma la parita ci dice che dobbiamo fare qualcosa di più Luca. Perché altrimenti stando solo lì non vinci mai una finale. Sì perché stiamo aspettando le giocate della Juventus. Dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco. Con coraggio. Con sfrontatezza. L'abbiamo sempre dimostrato. L'abbiamo sempre fatto. Non dobbiamo rischiare palloni come questo. Stiamo dando troppe palle a Donna Rumma. Siamo un po' timorosi. Andiamo Paletta. Paletta allarga il gioco. Sulla destra per Abate. Abate vede Suso. Suso va nello spazio. Bacca. Bacca. Prova a girarsi. Bacca. Appoggia Igna Ignazio. Ignazio mette in mezzo. Jack Buonaventura. La devia. La palla esce. Molto lontana dalla porta di Buffon. Chiaro che adesso la partita si complica. La partita si inerpica. La partita è tutta in salita. Abbiamo preso gol su calcio d'angolo. Loro hanno fatto valere la loro fisicità. Ci resta la recriminazione su quell'episodio Mantukic-Paletta ma insomma ormai l'episodio era andato e bisognava saper chiudere su quel calcio d'angolo. C'era in effetti da qualche minuto una certa pressione della Juventus che ci siamo portati fino in casa Luca. De Sciglio. Sì, lo dicevamo prima. Sì, De Sciglio. De Sciglio prova ad arrembare Mattia. E poi la palla torna dalle parti di Buffon. Fino a questo momento avevamo fatto meglio nella finale di Coppa Italia a Roma piuttosto che qui a Doha. Fino a questo momento. Sicuramente. Ma ci mancano le giocate di Buonaventura. Fino a ora non si è ancora visto. Locatelli ancora non ha dimostrato di essere entrato in partita. Ci mancano questi giocatori qui. Giocatori che ti fanno fare il salto di qualità. La rimessa con le mani di De Sciglio. Andiamo Mattia. Pronto ad appoggiare i suoi compagni di squadra. Ecco il tocco per Jack. Jack restituisce palla alta e lunga di De Sciglio. Bacca prova a posizionarsi. Deviazione di Rugani. Abbiamo bisogno anche noi di fare un tiro in porta. Cosa che non abbiamo ancora fatto nei primi 20 minuti di gioco. Sì, non siamo mai arrivati davanti a Buffon. Ecco un tiro da fuori area. E quello molto probabilmente ci serve per prendere un pochino più di fiducia. È quella che ci manca. Dobbiamo scrollarci di dosso. Questo inizio un po' timido. E questo soprattutto, questo gol fatto da Chiellini. Su azione di calcio d'angolo. Locatelli, palla dietro. Ancora per Romagnoli. Romagnoli gira da questa parte per Paletta. Ancora Abate. Abate la tocca in avanti per Suso. Fallo di Alexandro ai danni di Suso. C'è calcio di punizione Milan. Gli dobbiamo provare a portare su qualche torre anche noi. Eh sì. Adesso abbiamo l'opportunità di creare un'occasione da, almeno, tirare in porta a Buffon. Andiamo Suso sulla palla. Si prepara a battere lo spagnolo. Sono arretrati anche i guaine Manzikic in questa circostanza. Vediamo Suso. Un buon cross il suo. La prende Manzikic. Una volta da noi la prendeva Ibra. Palettone. La larga bella è giusta. Palettone per Suso. Suso, Suso, Suso. Suso. Bella palla. Esce. Esce la palla di Suso. Esce la palla di Suso. Ci siamo presentati. Ci siamo presentati, però questa palla qui bisogna crederci. E Bacca poteva, poteva arrivarci sul pallone. Si è fermato prima. Rivediamola. Saltato bene il suo avversario. E' caduta in mezzo a Bertolacci e Bacca questa palla. Ed è uscita non di molto alla destra di Buffon. Buffon che rimette palla in gioco. Balza di testa Cucca. Giro palla. Juventus. Se va a pressare alto Jack. Vediamo. Ecco, adesso proviamo a sparigliare, no? Proviamo a fare qualcosa di diverso anche nel pressing out. Eh sì, bisogna farlo. Bisogna un po' creare qualche preoccupazione alla Juve. Sta giocando troppo, tranquilla. Pjanic mette palla a terra, avanza. Partita che inizia ad aprirsi, ad allungarsi, a slabbrarsi. Vediamo, Alexandro. Alexandro al cross. Secondo palo. Dall'altra parte arriva Lichsteiner, che la controlla, la rimette in mezzo. Di qua arriva ancora Alexandro a tempo di prendersela. Fatunne, la suso. E poi c'è la deviazione di Abate. Grande giocata del brasiliano. Ha fatto una grandissima giocata. L'ha guardato, ha aspettato che arrivasse. Gli ha fatto... Vabbè, è un gran giocatore, Alexandro. Adesso tocca alla Juventus avvicinarsi ancora alla nostra area di rigore. Vediamo Pjanic sulla palla. La mette vicina alla bandierina. Vediamo Pjanic. Gol segnato da Chiellini. Vediamo allora Pjanic che mette in mezzo. Esce Gigio. Ferma tutto l'arbitro D'Amato. Fallo fischiato contro l'attacco della Juventus. Chiellini ha sempre qualcosa da fare e da dire. Ma ha fatto lui fallo. Sempre lui che fa fallo. Sempre lui. Sempre. Non ti dico quanto brucia aver preso gol da Chiellini, Luca. Tanto. Vediamo allora Gigio. Gigio lancia lungo a cercare Suso. Balza di testa Cucca. Ancora l'uscita di Chiellini. Sturaro. Giro palla a Juventus. Serie di tocchi di prima. Questo è molto alto e molto fuori anche da parte di Marchisio. Va Abate a rimettere in gioco dalle parti di Paletta. Palettone. C'è Bertolacci in posizione d'attesa. D'altronde per come è bloccata la partita, per come non ci sono Varchi, anche se fosse entrato fallo qui Netto, fallo di Sturaro su Abate, anche se fosse entrato Niang non avrebbe trovato Varchi per sgroppare. No, no, perché comunque la Juve è stretta, i reparti sono vicini, non ci sono linee di passaggio, le palle lunghe leggono bene. La Juve sta dimostrando comunque di essere una grande squadra. Romagnoli per Palettone che calcia facendo un bel cambio gioco, però è troppo lungo, troppo, troppo lungo. Buona, positiva, l'intenzione di cambiare gioco, però con la palla così lunga. Intanto rimedio emostatico per Paletta, quindi insomma continuava a perdere sangue dal naso. Adesso c'è la rimessa con le mani da parte di Lichsteiner, colpo di testa da parte di Romagnoli. La va a prendere Bertolacci che finisce a terra, fallo commesso da Pianice Chedira in coppia. Adesso c'è calcio di punizione nostro, non vuole mettere la palla lunga, fallo di Pianice. Non vuole mettere la palla lunga a Bertolacci, vuole giocarla. E allora noi torniamo con il nostro gioco preparatorio. Paletta restituisce ad Alessietto Romagnoli, ancora l'appoggio a De Sciglio. De Sciglio, Jack, vediamo Jack. Jack cerca tutto dall'altra parte, Ignazio Abate che fa un ottimo lavoro. Anche portare a casa la rimessa laterale è importante. Ha fatto una gran giocata, Ignazio, è stato bravo. Non era facile, la palla lunga. Giurai, Giurai per Suso, 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 tiene la palla, tiene la palla. La tocca dentro, Locca, Locca la restituisce, è stato bravo. C'erano i Juventini che stavano arrivando, palla messa in mezzo da Abate. La deviazione dai Jack, dai Jack. La va a prendere, Jack Bonave, punta Jack Bonave, punta Jack Bonave. Eccolo Bonaventura, in due lo aspettano. Pjanic mette il piede. Erano riusciti a raddoppiare, Lichten e Pjanic. Era diventata difficile per Jack, che va a giocare ancora palla. Jack prova a servire Locca. Si frappone ancora Pjanic. Loro non soltanto segnano e costruiscono, ma lavorano anche sulle minutaglie, sulle frattaglie della partita. Insomma, sono presenti su tutti gli episodi, anche se tratta di avere una palla in calcio d'angolo. In fallo laterale. L'hanno preparata benissimo e poi hanno una voglia incredibile. Bacca, bacca, bacca. Ho messo fallo, bacca. Peccato. Forse avrebbe potuto inserirsi senza andare a cercare il contatto con Chiellini. Sì, perché comunque la palla gli ha rimbalzata davanti. Chiellini ha cercato della sportellata, però appena lui la sente si butta per terra. Diciamo che ha usato un po' di esperienza qui, diciamo così. Vediamo allora Buffon sulla palla. Il rilancio lungo del portiere bianconero. Colpo di testa di Mandzukic, che non ha compagni lì però. La deviazione di Romagnoli. Qui si era presa anche un qualche compagno. Voleva giocatori lì in mezzo. Mandzukic. Rilancio Juventus. Paletta. Paletta, brutta entrata ancora di Mandzukic. Ma che la smettesse di provocare. E di giocare duro. Questo signore con le sopracciglia sempre alzate. Questi falli premeditati. Sempre. Questo giocare sporco di Mandzukic. Vediamo la rimessa con le mani. Il colpo di tacco di Kucca. Brutta entrata di Pjanic. Che merita il giallo. Che merita il giallo qui per questa entrata su Bertolacci. I falli della parita ci stanno. Qui Pjanic ha fatto fallo, va bene. Ma è lo spirito cattivo e provocatorio con cui li fa Mandzukic. Che mi manda letteralmente... Manda letteralmente di traverso la partita chi la vede. È il suo modo di giocare, il suo modo di essere. È cattivo. E lo dimostra anche nei piccoli falli che fa. De Sciglio. Porta palla in mezzo al campo. L'appoggio a Paletta. Palettone. Alza la testa. Ancora Romagnoli. Ancora Desci. Giro palla Milan. Andiamo di là con Jack. Jack. Prova a innescare Bertolacci. Non era una cattiva idea. Era una bella palla. Era una bella palla. Abbiamo bisogno di inserimenti anche dei centrocampisti. Abbiamo bisogno di sparigliare. Magari di non rispettare qualche distanza. Ma di distribuirci un po' più per il campo. Per togliere i riferimenti alla Juve. Non era fallo questo Luca. Ha preso palla Locatelli. Ha preso palla Locatelli. Che fallo è? L'hai detto subito palla. L'hai detto subito chiaro. Solo che appena si lanciano. L'hai visto proprio. Voleva anche il giallo. Pensa te pure questo. Voleva anche il giallo. Per un non fallo. Alexandro. Suso. Queste cose ci devono far venire un po' di caroglia. Un po' di rabbia. Di cattiveria in più. Avanza Rugani. Palla lunga di Rugani. La tiene in gioco Sturaro ma la perde. Abate. Suso. Viene via Cucca. Non riesce a restituire palla a Cucca. Qui la giocata rischiando molto. Qui doveva darla più in sicurezza. Piuttosto teniamola. Ancora Cucca che va a caccia del pallone. Piani ci scambia con Alexandro e Sturaro. Fallo di Locatelli. Adesso c'è calcio di punizione Juventus. Ecco questo è fallo. Sì questo è fallo. Sì sì sì. Però. Locatelli ha accompagnato la caduta di Sturaro. Un signore. Un fallo da signore. Si rialza l'ex giocatore del Genoa. Vediamo Pjanic. che allarga verso Rugani. Rugani ancora per Chedira. Chedira tocca l'indietro. Bacca prova a inseguire Marchisio. Ancora il Milan che alza i suoi giocatori. Abate. Alexandro può lanciare. Attento Alessio. Attento Alessio. Il giro palla dietro verso Gigio. La va a prendere ancora De Sciglio. De Sciglio aveva provato a servire Abate. Ma la sua palla è tutta di Alexandro. Facendo proprio Montella di salire alla squadra. Sì perché siamo troppo bassi. Troppo bassi dai la possibilità alla Juve di giocare tranquilla. Di trovare le linee di passaggio che vuole. Palla lunga di Rugani. Fallo di Mandzukic. Ai danni di Romagnoli. Vedi tenendo alta la difesa hai queste possibilità di cercare di anticipare. Ma nel regolamento della Supercoppa c'è la protesta di Mandzukic? Cioè è previsto dal regolamento della Supercoppa di Lega? Sì, penso di sì. Vediamo il cambio gioco di Locatelli per Ignazio. Punta Ignazio. Ecco la palla in avanti per Suso. Suso, Suso. Raddoppiano sempre. Raddoppiano sempre. Di là piani c'è Richsteiner. Di qua Sturaro e Alexandro. Raddoppiano sempre loro. Vediamo Abate. Ancora il recupero palla della Juventus. Va Locca. Messo giù Iguainpi. Mi sa che Locca porta casa al giallo. Vediamo allora. Lascia giocare il direttore di gara. Speriamo che si dimentichi. Pjanic. Pjanic. Ancora la Juventus che riesce a avanzare con Sturaro. Palettone. Rimpallo. Favorisce loro che avanzano tutti insieme. Chedira. Chedira per Lichsteiner. Portata palla a destra dalla Juventus. Lichsteiner contro Desci. E il traversone dello Svizzero è fuori. Andiamo. Si è dimenticato da Mato perché qui poteva starci il giallo. Non sei d'accordo Luca? Prende la palla. Sì fa fallo però. Prende la palla. Secondo me non glielo dà il giallo. Veniamo. Allegri che. Non glielo dà il giallo. Ha qualcosa da dire. C'è un cambio. Sta per entrare Evra. C'è un problema nella Juventus. Forse Alexandro? Sì. Quindi Evra al posto di Alex Sandro. E lì bisogna che Suso... Evra è un giocatore che merita rispetto. Sicuramente per la carriera. Evra è un signore del calcio che merita rispetto. Però bisogna che Suso gli vada via qualche volta. Eh sì perché con Alexandro era anche difficile perché comunque è un giocatore forte fisicamente, veloce. Evra è un pochino meno ora rispetto ad Alexandro. Però comunque è il signor giocatore. Rimessa con le mani di Igna Ignazio. La palla viene appoggiata a pallettone. Teniamola in campo ragazzi. Vi prego. Esci. De Sciglio può avanzare? C'è un po' di campo però siamo sempre a nostra metà. Servito Alessietto. Vediamo l'avanzata. Milan che gioca sempre con un filo conduttore. Quando esce la palla tra De Sciglio, Romagnoli, Paletta e Abate. Sempre pronti a essere coinvolti. Ognuno dei quattro sa dove è l'altro. Quando usciamo in questo modo. Ecco Palettone. Il Palettone ha pensato di dar la bacca alla deviazione di testa di Ruggani. L'Occa voleva liberare di là per Buonaventura. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Ancora Jack, ancora Jack. Punta Jack, punta Jack, punta Jack. Vediamo Jack, vediamo Jack. La mette in mezzo Jack. Oh Cucca. Cucca. La palla esce. Abbiamo sperato che la prendesse. Sì. Ha tirato via la gamba l'ultimo secondo. Pensando di far fallo, invece... Era in posizione regolare? Sì, sì, sì. Si è immolato. E' andato con la testa Sturaro per... E lui ha avuto paura di tirargli un calcio e ha tirato indietro il pallone. Il piede. Peccato. Bella palla in ogni caso di Buonaventura per Cucca. Alza il traversone Buffon. Che dira per Iguaini. Iguaini inseguito da Romagnoli. Iguaini sbaglia. Iguaini e Ignazio. Di prima. La regia sta su Ignazio e non va sull'azione. La regia Catariota. Vediamo. E allora c'è il recupero palla da parte di Palettone. E' andato questa palla in avanti Abate. Le telecamere sono rimaste su Abate. Su, sull'azione. Vediamo. Locatelli che si appoggia in Ignazio. Ancora il Loca. Il Loca tiene palla e appoggia. Dall'altra parte per Alessietto. Ancora il controllo di Desci. Vediamo l'avanzato. Oh, che è entrata. Adesso ha munizione. Brutta Lichten. Adesso ha munizione. Giusto il giallo. Mi sembra di capire dalla tua reazione, Luca. Eh sì. L'aveva chiesta prima lui. Questo è farlo da munizione. Non quello di prima. Quindi ha munito Lichtenner per questa entrataccia su Buonaventura. Anche perché Buonaventura l'aveva saltato. Di netto. Grande urlo e grande dolore per Buonaventura. Mi è sembrato che l'algido svizzero chiedesse scusa. Ho avuto le traveglie. Ha chiesto scusa al giocatore. Però nello stesso tempo si lamentava con l'arbitro di ammunizione. Calcio di punizione Minan. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Guardato Buffon. Palla messa in mezzo. Molto alta. Balza Kuczka. La prende Giurai. La prende Giurai. Non è riuscito ad angolarla. Colpo di testa di Kuczka. La palla controllata da Gigi Buffon. Che adesso rimette il pallone in gioco. Avanza Rugani. Rugani tocca all'indietro. Devia Jack. La rimessa di Lichsteiner. Mentre si va verso l'ultimissima parte del primo tempo. Kuczka. Kuczka appoggia a paletta. Gol della Juventus è arrivato in un momento di pressione loro. Sì. Ora hanno rallentato un pochino. Però in Minan c'è poco movimento. Sempre una palla orizzontale. In giro palla 3-4. C'è poca verticalizzazione. Quindi tu dici o svoltiamo o saliamo di qualità oppure non la riprendiamo questa partita. È difficile. Buonaventura. Bertolacci prova a pressare su Rugani. Va a Bacca. Allontana Buffon. E poi Romagnoli va su Manzucchi. C'è attenzione. Higuain. Sturaro. Avanza Evra. C'è campo per Evra. Suso non lo segue. Lo aspetta Abate. Palettone protegge. Intanto vedi. Intanto vedi Sturaro che dà il calcetto. Cioè la palla è persa però intanto dà il calcetto. Sì. Proprio marchio di fabbrica. Eh sì. È il loro atteggiamento. Se non ci arrivano sulla palla arrivano sulle gambe. Vediamo Donnarumma. Limite dell'area piccola per Gigio. Il tocco ravvicinato. Paletta Ignazio. Punta Ignazio. Va a pressare Higuain. Adesso c'è la ripresa del gioco a favore del Milan. Con la rimessa con le mani di Abate. Eccolo Ignazio per Kucca. Kucca fa rovesciata. Prova a inserirsi. Bacca. Va Suso. La porta via Suso. Suso innesca il duello con Marchisio. Suso arriva sul fondo. Suso la mette in mezzo. Bella palla. Baccholo. No. Non siamo andati al tiro al volo. Grande occasione nostra. Grande azione di Suso. Bravo Jesus Fernandez-Aez. Punta Matti Mattia. Punta. Bacca non l'ha tirata al volo. Vediamo Locatelli. La voluta stoppare. E allora c'è la palla di Palettone. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Jesus Fernandez-Aez. Jesus Fernandez-Aez. Ecco la palla messa in mezzo. E' gol. E' gol. Grande. 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 Jesus Fernandez-Aez. Jack Buonaventura. Uno a uno. Grande. Uno a uno. Su quella voce. Pilaristi di Doha. Su quella voce. Splendidi. Suso e Buonaventura. Preso Buffon. Preso Buffon. Preso. Uno a uno. Grande. Grande. Grande palla di Suso. Jack ha fatto un taglio perfetto. E ha scelto il tempo giusto. Vedi Suso dopo la vita di Alessandro. Eh sì. Due palle. Eh sì. Una. Bacca non ha tirato. Qui abbiamo fatto gol. Eh sì. Si arrabbia giustamente Buffon per il suo spirito competitivo. Uno a uno. Suso deve prendere ancora più coraggio. Perché può far malissimo da quella parte adesso. E allora c'è che dire. Palla dietro. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Buffon. La alza. Gomitata di Liebsteiner. Gomitata di Liebsteiner. La buonaventura. Già monito. Gomitata Liebsteiner. La voglio rivedere. La voglio rivedere. Guardalo. Guardalo. Ehi. Già monito. Ehi. Ehi. Già monito. Liebsteiner da Mato. Attenzione alla partita. Già monito. Lì. Danno la gomitata. Arrabbiati per il pareggio. Già monito Liebsteiner. Se guardi la faccia di Liebsteiner mentre colpisce ha i denti di Grigny identico. E ha capito. Ha guardato l'arbitro quando è venuto giù. Ha capito che c'era un problema. Che c'era un problema che rischiava. Bisogna crederci. Adesso la Juve è in difficoltà. La Juve è in difficoltà. E Milano deve approfittare questa situazione. Tutta la tensione di Galliani. Liebsteiner già monito. Gomitata. in faccia a Buonaventura. Mamma che palla Suso Luca. Poi grande Jack. Ma che palla Suso. Suso. Anche prima aveva messo una gran palla. Quando era andato sul fondo che l'ha inseguito Marchisio. Anche prima ancora. Quando l'aveva messa che... Stai qui Luca. Funziona Luca. Dai 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 dai. Rugani. Per Chiellini. Rientra in campo Jack dopo la gomitataccia di Riksteiner già monito. Graziato Riksteiner. Doveva essere in dieci la Juventus. Pjanic. E questo sana la punizione di Pjanic in campionato. Perché qui dovevano essere in dieci. Mandzukic l'allarga per Riksteiner. Riksteiner allarga ancora per Mandzukic. Attento Alessietto. Attento Alessietto. Mandzukic ho paura. Bravo Ignazio. Deva saldare su Sturaro. Grande Ignazio. Grande Ignazio. Ha fatto una grandissima diagonale. E' grandissimo. Era dentro la porta. E insomma Mandzukic non lo dobbiamo sposare. Non è un mostro di simpatia ma tutti i palloni. Un gran giocatore. Tutti i palloni gli dà senso. Vediamo allora gli dà significato. Gli dà robustezza. Calcio d'angolo Juventus. Attenti ragazzi vi prego Dio mio. Pjanic. Palla messa in mezzo. Palla. Palla. Sempre Chiellini. Sempre Chiellini. Fallo Juventus. Fallo Juventus. Ai danni di Matti Mattia De Sciglio che si rialza. Sull'1-1 di Doha. Il pareggio di Jack Bonave. Dopo la rete di Chiellini. L'aveva respinta in ogni caso Locatelli. Vediamo Donnarumma. Pronto a mettere in mezzo. Palla lunga Gigio. Va a saltare Cucca. Ancora Chiellini. Inseguito da Suso. Palla deviata da Suso. La rimessa con le mani di Evra. Il copio di destra di Manzucchi. Andrea Bertola la porta a casa. Loca. Attento Loca. La difende bene Loca. L'appoggia Giurai. Giurai la mette nel porto sicuro. Cioè i piedi di Suso. 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 Attento Loca. Attento Loca. Attento Loca. Ecco io ho paura qui ragazzi. Io ho paura. Io ho paura. Vieni a farla diagonale Deci. Vieni a farla diagonale Deci. C'è un giallo contro Romagnoli. Giallo contro Romagnoli. Non dà la regola del vantaggio da Matio. Si arrabbia. Si arrabbia. Giallo contro Romagnoli. Vediamo. Meno male che ha fischiato. Sì perché loro stavano andando in contropiede. Sì perché poi la palla è arrivata a Higuaino. E adesso da Matto attenzione eh. Perché come Lichtener è stato graziato sulla gomitata. Ma non è che adesso Romagnoli che è stato ammonito bisogna infierire da Matto eh. Andiamo. Calcio di punizione Juventus. Gigio Donnarum fra i pali. Pjanic fa paura in qualsiasi posizione. Attenzione. Quella è la stessa zolla di San Siro sul famoso gol. Stiamo attenti ragazzi. Dio mio vi prego. Dio mio. Pjanic. Pjanic la tiene in mezzo Rugani. Fischia. Blocco. Fallo in attacco. L'arbitro. Fallo sempre blocco. Sempre. E Manzucic protesta sempre. Si vede che l'organizzazione Katariota ci fa tornare le squadre in Italia se Manzucic non protesta. Cioè se non viene rispettato il regolamento della protesta di Manzucic interrompe la partita perché... Avrà un tot di proteste. Sì 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 c'è uno slot amplissimo. La rabbia di Chiellini. Uno a uno. Vediamo Donnarum. Pronto a riprendere il gioco. La palla è molto alta e molto tesa. Spizza bacca. Giacla sfiora. Terra Cucca e Marchisio. Palla lunga Juve. Vale Sietono. Che dire? Che dire? Bravo Palettone. Bravo. Spazzala via Palettone. Spazzala via Palettone. La rimessa in campo di Chedira. Chedira dialoga con Pjanic. Ancora il recupero di Andrea Bertola. Jack Bonave. Jack Bonave. Loca. 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 Il pallonetto bello del Loca per Bacchitos. Vediamo Bacchitos che la dà di Andrea Bertola. Andiamo. Punta Andrea. Punta Andrea. Punta Jack Bonave. C'è Suso di qua. C'è Suso di qua. Punta Jack Bonave. Punta Jack Bonave. Punta Jack Bonave. Ancora Jack che lavora. Va. Lavora. Va. Grande Jack. Mandalo a vuoto Jack. Chiellini. Giurai di là. Di là. Giurai. Giurai di là. C'è Suso. C'era Suso più libero. Chiellini pressa Kucca. Ancora Jesus Fernandez Aez. Punta Jesus. Punta Jesus. Se ne va Jesus. Gran bel cross di Jesus. Secondo palo. Jack Bonave. Oh peccato. Peccato. Voleva controllare. Voleva controllarla e metterla in mezzo. Sì perché Sturano si era girato. Allora anziché metterla. Mamma che bella. Aveva stoppata. Sturano è andato fuori. Cosa aveva in mente Jack Luca? Eh stopparla di sinistro. Perché ormai Sturano era girato. Non vedeva più la palla. Stoppava di sinistro. E era tu per tu col portiere. Aveva fatto una gran giocata. Buona avventura. Due minuti di recupero. Vediamo Buffon. Il lancio lungo. Balsa di testa. Più in alto di tutti per Antonio Giurai. E ancora la palla di Marchisi. Per Manzukic. Che la tocca di piattone. Locatelli va a prendersi. Il suo avversario Sturano. Fallo Milan. Calcio di punizione Juventus. Calcio di punizione a loro favore. Si inizia a far sentire un po' Kucca. Giocatore importante Kucca eh Luca? È fondamentale. È fondamentale per il centrocampo del Milan. Da fisicità. Ha quella qualità importante di prendere sempre la palla di testa. E poi è uno che mena. Che ci vuole insomma. Tu intendi dire. Una squadra ci vuole. Uno che mena ci vuole. Fare l'enghia. Fare l'enghia. Fare l'enghia. Farci sentire. Ci vuole. Pjanic. Pjanic. Vai Gigio. Vai Gigio. Allontana. A due pugni Gigio. Colpo di testa Licksteiner. Vai Andrea Bertola. Salta tu. La prendono loro. Kucca. Kucca. Non perdiamola. Romagnoli. Allontana. Ancora. Marchisio. Cambio gioco Juventus. Manzucic è stato bravo qui. Manzucic è stato bravo. Poi Palettone va a chiudere. E c'è il calcio d'angolo Juventus. Qui Manzucic. Una palla così alta. Che viene da così lontano. Metterla di prima di testa. È stato bravo. Calcio d'angolo Juventus. A 30 secondi alla fine del primo tempo. Attenti ragazzi. Vi prego. Dio mio. Vediamo Pjanic. Pjanic pronto a battere. Locatelli segue i guardi. in secondo palla. Giurai. Jack. Vai Jack. Vai Jack. Punta Jack. Punta Jack. Poi Sturaro alla meglio. Sturaro da palla dietro. In ogni caso abbiamo tamponato. È stato bravo Jack. Non l'ha fatto girare. Potrei rubargli il pallone. Però bene così. Tenti a questa palla di Buffon. Buffon ci aveva fatto un gol con questi rinvii l'anno scorso ad aprile sull'1-0 dopo il gol di Alex. Il pareggio della Juventus era nato da un rinvio così di Buffon che qui è stato inibito, impedito, fischiato, cancellato, è finito primo tempo. 1-1. Insomma, abbiamo iniziato tremebondi. Prima metà primo tempo Juventus. Siamo usciti bene noi, Luca. Sì, i primi 20 minuti devo dire che la Juventus ha espresso un gran calcio e il Milan è un po' timoroso. Ma dopo che abbiamo fatto gol abbiamo iniziato a pressarli e la Juve ha iniziato a buttare via il pallone e non l'ha più giocata a pallone. Ce la stiamo giocando. Alla grande. Ce la stiamo giocando. Luca Antonini su Milan TV la finale di Supercoppa di Doha 1-1 alla fine del primo tempo. Fra poco, naturalmente. Ancora con voi. Siamo ancora con voi. Sta per finire l'intervallo della finale di Supercoppa di Lega del 23 dicembre 2016 a Doha in Qatar 1-1 alla fine del primo tempo. con noi Luca Antonini che ci faceva notare un aspetto importante del pareggio del Milan di Buonaventura. Sì, perché a destra si raddoppiano raddoppiano bene Licksteiner e Chedira a sinistra ora con l'entrata di Evra Sturaro non è bravo nel raddoppio e quindi Suso ha avuto l'opportunità di mettere questa palla bellissima per Buonaventura quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura importante per il secondo tempo. Buffon si è arrabbiato molto con i suoi compagni per il pareggio preso in chiusura di primo tempo. Sì, sì perché si è arrabbiato secondo me soprattutto con Evra Sturaro perché è andato troppo spazio di giocata a Suso e poi Licksteiner si è fatto beffare in anticipo su questo cross da Buonaventura. Abbiamo apprezzato tanto il lavoro di Suso e il cross di Suso però il lavoro che fa Buonaventura sul gol è duplice Luca perché va in una posizione non sua lui si accentra lui esterno si accentra e poi accentrandosi si prepara a fare quella girata di testa che era tutt'altro che semplice perché insomma l'ha messa sul palo opposto. ha avuto ha avuto una lettura conoscendo sicuramente anche Suso e quando rientra la palla la mette lì e quindi ha pensato bene di andare in quella posizione e poi è stato bravissimo nello spizzare la palla e buttarla dove Buffon non poteva arrivarci. Molte recriminazioni insomma in questo intervallo per la mancata espulsione di Licksteiner c'è anche chi dice che da sola quella gomitata era da rosso come minimo era da giallo e Licksteiner era già munito insomma è clamoroso che la Juventus in questo momento sia ancora in 11 Sì era da rosso diretto quella gomitata anche perché era diretta in faccia all'avversario e quindi non era neanche da giallo era da rosso diretto e la Juve meritava di essere in 10 Quadrato in quadrato quadrato inquadrati i nostri insomma è chiaro che dopo il gol di Chiellini dopo l'inizio della Juve si pensava che sarebbe stata una finale a senso unico una finale dominata invece come sempre accade in questa stagione il Milan magari soffre però poi viene sempre fuori Sì è una una cosa importante questa che vuol dire credere nei propri mezzi credere che prima o poi il risultato arrivi e comunque importante è stato secondo me l'infortunio di di Alessandro che ha quindi dato l'opportunità a Suso di prendere più fiducia più consapevolezza più coraggio nell'affrontare Evra che sicuramente non è non è Alessandro è proprio è vero che si gioca a Doha è vero che si gioca in Qatar a 6 ore di volo da Milano però è proprio una finale italiana si vede la componente italiana l'intensità la parte tattica insomma anche il modo in cui si studiano l'hai sottolineato più volte nel primo tempo Luca Antonini le due squadre è proprio italiana questa partita è proprio una finale italiana la tipica tipica partita italiana studiata appunto sulla sulla tattica sull'aspettare le giocate dell'avversario studiarle infatti i primi minuti sia la Juve che il Milan si studiavano e la Juve i primi 20 minuti devo dire che ha giocato ha giocato bene è rimasta corta con i reparti e quindi ha avuto più l'opportunità di intercettare le giocate del Milan e ripartire e ha avuto quelle due o tre occasioni che hanno fatto potevano far male al Milan però il Milan è stato bravo è stato tranquillo non è mai non si è mai lasciato prendere dall'ansia e è arrivato poi il pareggio e speriamo che riprenda il secondo tempo come l'ha finito il Milan Quadrato Benatiari è entrato in campo Allegri quindi insomma Juventus pronta per la ripresa dovremmo esserlo anche noi vediamo un'espressione seccata di Allegri secondo me è preoccupato è preoccupato perché non non si aspettava di una reazione così così veamente da parte del Milan e noi ce l'auguravamo e così è stato speriamo di come ho detto prima di ripartire nello stesso modo perché è l'unico modo che Milan ha per prendere il sopravvento sulla Juventus forse è la sua di squadra che non sta facendo quello che l'allenatore si aspettava perché insomma io ho visto anche nei primi 20 minuti che sono stati quelli sostanzialmente in cui la Juve ha tenuto il pallino del gioco però non 20 minuti dominati dalla Juventus il Milan comunque ha concesso soprattutto tiri da lontano e palla inattiva alla Juventus in quella via sì sì la Juve non è arrivata mai a tu per tu col portiere ha creato occasioni solo dalla distanza e il Milan devo dire che è stato paziente ha fatto il suo gioco senza mai buttare via il pallone che è un diktat di Montella continuiamo così ragazzi forza Nicola Caccia continua uno dei collaboratori Vincenzo Montella a stare addosso alla squadra subito subito cioè di non di iniziare bene subito il secondo tempo di non perdere minimamente concentrazione e attenzione sì non dobbiamo perdere campo non dobbiamo lasciare il pallino del gioco alla Juventus perché è brava e fa del gioco la sua la sua la sua la sua forza e quindi il Milan deve continuare come ha finito il primo tempo dai ce la possiamo fare D'Amato sta per ridare il V al match sta per partire il secondo tempo della finale Supercoppa 1-1 si riparte dai gol di Chiellini e Bonaventura e allora tocca alla Juventus ripartire con i giocatori bianconeri pronti al calcio d'inizio palla dietro il lancio lungo da parte di Marchisio balza di testa cucica la palla rimbalza sulla schiena di Manzucic poi allontana bene Romagnoli è in vantaggio Suso palla dietro ad Abate pressa alto Sturaro palla lunga di Abate Bacca qui deve tenerla Bacca deve portarla via deve impegnare contrastare gli avversari non ce l'ha fatta Rugani l'ha tenuto va a paletta il lancio in avanti è direttamente fuori assolutamente non inseguibile non recuperabile da parte di Carlitos Bacca allora la rimessa con le mani di Juventus vediamo Efra pubblico che non si è ancora non ha ancora ritrovato i propri posti nel lungo intervallo di questa finale di Doha per i tifosi la partita intanto nel frattempo è già ricominciata Chiellini il lancio in avanti balza di testa paletta che ha la meglio su Manzucic spinto da dietro Suso altro colpo di testa di Abate la mette giù prima col petto e poi col sinistro Chiellini ancora Higuain che non riesce a servire i compagni la palla del Pipita finisce assolutissimamente fuori la rimessa con le mani di Abate sembra sembra che il Milan abbia capito di pressare alto alla Juventus perché è l'unico modo per non farla giocare per farla giocare male Abate ancora alla ripresa del gioco ancora qualche attimo di attesa si può andare servito Suso Suso fa pallonetto anticipato Kucca da Pjanic poi Bertolacci va a collaborare con i suoi compagni Palettone gira di qua per Gigio Gigio su De Sciglio De Sciglio la fa scorrere poi la tocca subito va bene meglio mettere fuori una palla così piuttosto che fermarsi perderla con l'avversario che va in porta sicuramente ha fatto bene Mattia lasciarla passare e non rischiare nulla Rugani il lancio col destro deve andare bravissimo bravissimo qui Alessietto Romagnoli incredibile che Romagnoli e Lichsteiner abbiano avuto la stessa sanzione un giallo quando Lichsteiner deve essere espulso qui errore nostro ancora è uno di quegli errori che facevamo inizio partita la palla in uscita che serviamo male qui ci vengono a giocare fra le linee attenzione recupera il Minan si arrabbia Gnegnazio punta Jesus punta Jesus punta Jesus palla per Carlitos Bacca ecco Carlitos Bacca contro Rugani Bacca 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 si ferma c'è Suso di là c'è Suso di là c'è Suso di là la dà dentro giusta per Andrea Bertola Andrea Bertola allarga troppo per Buonaventura Andrea Bertolacci l'allarga troppo per Buonaventura non abbiamo sfruttato questo contropiede importante Luca peccato peccato ma credo che non abbia avuto l'opportunità di fare un passaggio pulito perché aveva la gamba dell'avversario davanti a sé quindi ha provato a dare questa palla a Buonaventura peccato che non è arrivata a buon fine Kucca la palla rimbalza all'indietro per Lichsteiner che la lifta in avanti fallo di Guain fallo di Guain su Romagnoli visto subito dal direttore di gara che è incredibile che non abbiano visto in sei la gomitata di Lichsteiner su Buonaventura da secondo giallo come minimo nel primo tempo è assolutamente incredibile a terra Sturaro adesso riparte il Milan Luca Antonini con noi ecco il possesso di Gnagnazio punta Gnagnazio avanza Gnagnazio serve Suso Suso lo va a prendere Sturaro Suso l'allunga subito per Abate Evra vigila ha usato l'esperienza si è messo davanti ha lasciato andare la palla sul fondo torna con la sua andatura caratteristica Abate gli ha dato la palla subito di prima forse Igna non se l'aspettava anche perché è più veloce di Evra ci sarebbe arrivato sicuramente palettone poi Evra riparte da dietro la Juventus vediamo l'uscita della palla bianconera Bertolacci va su Rugani Rugani la tocca in orizzontale per Chiellini che cambia verso deviazione milanista e palla che esce la rimessa con le mani è loro intanto hanno guadagnato campo attenzione sono nella nostra metà ecco Sturaro va a chiudere Igna Ignazio la porta via Kucca Bertolacci poi Kucca è bravissimo Jack Buonaventura di prima bella aveva già deciso di metterla di qua ancora prima di toccarla la palla di Sciglio aveva visto Mattia aveva visto Mattia già prima Jack Palettone la mette a terra la toglie dal raggio d'azione di Manzuki ce l'appoggia Igna Ignazio Juventus che ci aspetta più bassa Luca sì è un atteggiamento della Juve ma soprattutto l'atteggiamento del Milan è di rimanere alti naturalmente Montella gli ha detto durante il primo tempo che l'atteggiamento di rimanere bassi attenzione che ripartono loro qui abbiamo difeso male noi attenzione Manzuki ci vuole la palla Higuain Manzuki ce la dà male meno male allontana Alessietto Romagnoli Suso Suso va a recuperare la palla cosa c'è ma cosa c'è fallo di mano fallo di mano sorpreso il primo a essere sorpreso è Suso come si fa a vedere questo fallo di mano e non vedere la gomitata di Lichsteiner vediamo allora calcio di punizione Juventus che viene battuto insomma così un po' così un po' alla Carlona la posizione scelta la misura di trattative fra arbitro e bianconeri Lichsteiner attaccato da Jack Jack viene via attento Jack via la palla Jack la appoggia De Sciglio guarda come pressa Higuain poi Pucca di prima attenti ragazzi erano persi noi queste palle lavoriose qua tendiamo a perderle quando diventa complicato e farraginoso il nostro disimpegno tendiamo a fare di questi errori Lichsteiner ben pescato da Chiellini bravo Mattia rimessa con le mani Juventus ti è piaciuto qui De Sciglio per la scelta di tempo Luca? bravo ha scelto tempo giusto si scalda Matti Fernandez va a prendere la palla Jack bravissimo Jack però poi è Marchisio che si porta la palla in avanti scherma molto bene Cucca Suso Andrea Bertolacci non vince duello con Evra fallo commesso da vera calcio di punizione Milano il fallo l'hai visto subito Luca è sì che è un battese di Evra è stato bravo Bertolacci a buttarsi sul pallone avanza De Sciglio serve bene Jack possiamo avanzare possiamo attaccare punta Jack punta Jack punta Jack eccolo Jack che allarga per De Sciglio il tre persone di De Sciglio allontana di Piatone Rugani che poi Buffon dopo il Milan-Juventus del gol annullato a piani ci si arrabbiò con i suoi compagni perché aveva fatto un'intervista dicendo non siamo andati a protestare noi sulla gomitata clamorosa da espulsione di Lichsteiner non siamo andati a protestare no non siamo andati a protestare ma secondo me nessuno l'ha vista così bene perché erano da soli loro due però i giocatori del Milan pensano alla partita non pensano a protestare la palla lunga di Igna Ignazio Abate per Suso Suso fa un grande controllo la tiene in campo Esus bravo bravo Esus grande palla grande palla Jack cosa fa Suso nella partita ragazzi cosa fa Suso Luca una grandissima palla ancora Jack era riuscito ad arrivare sopra il pallone prima di Lichsteiner peccato non ci è arrivato a prenderla bene peccato controllo in volo difesa della palla grande cross tutto questo ha fatto Suso Jack la mette in mezzo bella allontana Chiellini che copre Abate attenzione Igna Ignazio c'è Suso largo Igna la mette in mezzo un buon cross anche questo secondo Paolo la palla la palla rimbalza addosso a Bertolacci Bertolacci è stato colpito sul petto non è riuscito a mettere in avanti la testa Luca sì perché prima di lui la tocca Lichsteiner sì 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 però il Milan è iniziato col piglio giusto è iniziato come aveva finito il primo tempo e questo è l'unico modo per mettere in difficoltà la Juventus e allora c'è il giro palla Juve va Bertolacci che subisce fallo da Lichsteiner ancora ancora vediamo guarda come protesta oltretutto che ancora in campo rimessa con le mani De Sciglio otto minuti nel secondo tempo a Doha uno a uno nella finale tutta italiana di Supercoppa di Lega Juventus Milan De Sciglio fa una buonissima scelta la gira di là per Igna Ignazio Ignazio apre il compassone poi serve Suso lo aspetta Evra raddoppia Sturaro Suso Suso viene in mezzo a giocare Suso palla palla bassa Jack Jack Locano non riesce a servire né Bertolacci né Bacca peccato 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 vuole a servire secondo me Bacca questa è l'espressione di Manuel Locatelli peccato davvero adesso c'è la rimessa dal fondo di Buffon ottimo inizio di ripresa Milan vediamo allora Chiellini Luca ripressiamo alti questo è il modo che vedi la Juve non riesce più a giocare è l'unico modo per non far giocare la Juventus Evra che guadagna molti continua a venire in avanti guadagna molto campo sulla sua rimessa che doveva essere battuta un po' dietro la mette giù chiellini giù chiellini servito Rugani Rugani la mette in mezzo al campo dove c'è la palla lunga di Pjanic che pesca bene Higuain attenzione Higuain il tiro di Higuain e la palla esce la palla esce primo tiro in porta o comunque verso la porta di Higuain verso la porta tirato fuori di 5-6 metri dalla porta è stato bravo Romagnoli a fargli stoppare la palla e andare verso l'esterno e quindi da lì o crossava verso Mandzukic o o tirava in porta sul filo del fuorigioco Higuain adesso riparte il Milan Romagnoli attenzione Alessietto bella palla in mezzo al campo per Jack Jack la difende la larga giusta per Abate buona transizione Milan avanza Igna Ignazio punta Ignazio punta Ignazio Suso 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 prova a metterla in mezzo c'è la respinta Juve certo è che quando Suso ti punta ti fa capire che può succedere qualcosa eh sì ha quell'andamento che può andare da qualsiasi parte poi è bravo sia col destra che col sinistro quindi chi lo affronta non sa mai dove mandarlo Abate alla rimessa con le mani va in mezzo all'area Bertolacci Igna forse serve voleva servire Locatelli non serve indietro Paletta Palettone torna indietro da Alessietto Romagnoli poi ancora Desci tiene palla il Milan Alessio Alessio l'appoggia Paletta poi ancora Romagnoli avanza Alessietto Alessietto bella per Andrea Bertola Bacca 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 Suso 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 la mette la mette in mezzo ancora traversa traversa Milan pazzesca ancora Paletta dentro Jack Jack se l'allunga Jack la recupera Andrea Bertolacci ecco Jack allontana Rugani traversa Milan Locatelli la mette a terra ma ancora Gigio Donnarumma la mette in mezzo al campo per Cucca attenti ragazzi Locca l'allarga giusta per Suso punta Jesus Fernandez eccolo Jesus vediamo Locca che si allarga Suso bella palla per Bertolacci dai la gira giusta per Jack Bonave punta Jack Bonave stiamo lavorando i fianchi la Juventus Jack la mette in mezzo la palla torna indietro Jack rimessa nostra 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 la traversa di Romagnoli la traversa di Romagnoli che aveva usato la stessa tecnica di Bonaventura la traversa ma era nostra Luca era nostra la rimessa la palla mezza e mezza da loro vediamo Lichsteiner va di testa Alessietto che fallo vada vediamo Romagnoli quadrato Mandzukic poi Marchisio Rugani la gira dall'altra parte per Chiellini palla in avanti per Evra lo aspetta Abate la doppia Kucca falla stava lasciando andare Damato stava lasciando andare deve aver ricevuto una segnalazione in auricolare perché stava lasciando correre ammonito Kucca Luca ma che fallo è Abate ormai aveva preso Abate ha preso la palla Abate e Kucca prendono la palla quando Kucca va addosso a Evra ormai l'azione di Evra è finita incredibile anche la munizione Kucca smorfia per Evra calcio di punizione Juventus ancora Pjanic attenzione Pjanic ragazzi che continua ad avvicinarsi continua a mettere davanti il pallone continua a mettere in avanti il pallone Pjanic attenti ragazzi vi prego deviazione di testa bravo da parte di Suso fuori gioco fuori gioco fuori gioco fischiato sempre bello in ritardo fischiato sempre bello in ritardo però è fuori gioco con Etto di Higuain andiamo perché lo fischi in ritardo un fuori gioco così perché perché provi a vedere se vuoi vediamo allora la ripresa del gioco Paletta pronto a calciare battuta la punizione da Palettone Kucca Kucca con il petto prende il campo a Sturaro prende il tempo a Sturaro Giurai trattoreggia Giurai andiamo a trattorare Giurai vediamo Giurai Lavora la palla tocca dietro ancora per Suso 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 mette in mezzo una bella palla Rugani allontana che bei palloni che mette in mezzo Suso la lascia rimbalzare Ignazio poi Ignazio la va a prendere poi deve lottare con i guai impeccati era una palla nostra l'abbiamo lasciata rimbalzare adesso ce l'hanno loro e adesso avanzano c'è campo per loro attenzione Chedira Chedira il tiro grande Gigio grande Gigio come a San Siro grande Gigio grande Gigio però è una palla che gli abbiamo lasciato troppo facile era nostra era nostra Ignazio ha temporeggiato un attimino di troppo Iguain quelle palle lì le prende se le porta a casa gran tiro di Chedira e grande respinta di Donnarumma c'è stata anche la deviazione di Romagnoli calcio d'angolo Juventus quarto d'ora nella ripresa Gigio osserva tutto va Pjanic palla messa in mezzo attenti ragazzi vi prego via la palla la palla ancora per la Juventus c'è stata una deviazione evidentemente qui rivediamo la grande parata di Gigio Chedira ci ha riprovato e Donnarumma gli ha detto nuovamente no andiamo ancora Marchisio si prepara il cross attenzione ragazzi Evra Evra abbiamo troppi uomini lì bravo Loca splendido bravo Loca bravo Loca grandissimo Loca bella l'apertura per Jesus Fernandez punta Jesus punta Jesus si appoggia all'indietro Locatelli ancora bel lancio a cambio gioco di di Locatelli ma è proprio De Sciglio che la rimette in campo su Mandzukic Mandzukic insiste non lascia nulla bravo Mattia poi va a chiuderlo De Sciglio rimessa nostra bravo rimessa nostra rimessa nostra accettare decisione please accettare decisione thanks vediamo riparte Loca ancora Cucca forse c'era Falunca è andata la presa col piede io non l'ho visto non l'hai visto batte la palla per Jesus Fernandez punta Jesus punta Jesus punta Jesus punta Jesus si Jesus si Jesus si 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 palla messa in mezzo peccato che lì è nostra chi c'è perché non ci siamo Giurai 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 Trattoreggia Giurai Bacca sul secondo palo enorme occasione nostra ancora Bacca sul secondo palo gli è rimbalzata troppo Luca è schizzata sul terreno di gioco ha preso velocità non ci è riuscito arrivare peccato era una gran palla mamma mia posizione straregolare di Bacca e allora avanza la Juventus traversa occasioni grande Milan Rugani la palla scucchiaiata il colpo di testa da parte di Desciglio stiamo lottando stiamo giocando stiamo vivendo vediamo Jack Jack la restituisce indietro questa palla Luca Luca bella in cassaforte per Desciglio Desciglio che va ancora fallo è fallo è fallo protezione Lichsteiner quando andate al mare e volete mettervi la protezione 50 sulla pelle per non prendere il sole mettetevi la protezione di Steiner vediamo Desciglio Desciglio palettone attento palettone Dio mio non scherziamo col fuoco la palla allora per Igna Ignazio punta Igna Ignazio punta Igna Ignazio punta Igna Ignazio punta Igna Ignazio ecco il traversone di Igna la palla gli torna indietro Igna Igna poi gli scappa via poi gli scappa via e poi è troppo lunga peccato perché se l'avesse messa bene dentro c'erano già tre giocatori pronti guarda che palla che ha messo Kucca prima è arrivato a un a un nulla la bacca da questa palla dalla palla del 2 a 1 nostro ecco il colpo di testa da parte di Alessietto Chedira la rimette in avanti balza bene paletta tienilo giù palettone ecco allora il lavoro di Jack Bonave punta Jack Bonave controlla Jack Bonave Manuel Oca Manuel Oca lavora bene in crescita Locatelli in una ripresa Luca sì ma tutti tutti stanno stanno facendo un gran secondo tempo tutti prestano e hanno avuto il coraggio di hanno trovato il coraggio di iniziare a giocare bene tra le linee si muovono bene sta per entrare Di Bala prova ad avanzare Igna Ignazio no palla data troppo in avanti la prendono loro questa è una palla ecco di solito non le regaliamo noi queste palle di solito sono le palle che sbagliavamo al primo tempo riparte la Juventus vuole la palla Suso Sturaro deve indietreggiare poi trova in orizzontale Chiellini palla consegnata Pjanic lancio lungo colpo di testa di Manzucic attenzione Chedira Chedira lo accompagna Jack Chedira però riesce a conservare il possesso del pallone poi il tiro Chedira fino in fondo però Chedira tira dritto ma è un animale è un animale difficile anche buttarlo giù calcisticamente parlando sì 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 un animale non lo butti giù sì 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 certo l'hai detto proprio in squisitissimo gergo calcistico vediamo allora la palla di Gigio Donnarumma il lancio lungo bacca il petto di Rugani Bonaventura fallo di Bonaventura fallo di Bonaventura poi a terra Marchisio gara lottata vibrante tesa incollata con due squadre vicine qui Bertolacci è andato sulla palla finito per commettere fallo su Marchisio calcio di punizione Juventus vediamo Chiellini Chiellini per Chedira ancora Rugani si muove bacca ancora Chedira Chedira torna indietro va tutto su Buffon dopo 20 minuti nel secondo tempo ancora la palla per Rugani Lichsteiner la sbaglia Lichsteiner vai giurai di testa giurai di testa per Suso 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 ve la restituisce rischiamo un po' ma la palla è ancora nostra Suso 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 decide di appoggiare la loca Milan avanti piano ma palla nostra Abate ancora il tocco per Alessietto Romagnoli Milan che gioca a viso aperto a tu per tu con coraggio partite in equilibrio Bonaventura Andrea Bertolacci Andrea Bertolacci toccato dai bianconeri da palla indietro De Sciglio De Sciglio vede Romagnoli ci sono i cori per Di Balla ragazzi che qui adesso Manzucic alza il pressing attento Alessietto attento Alessietto la calcia saltando il centrocampo palla lunga Romagnoli colpo di testa Rugani va ancora Locatelli però non potevamo forse indirizzarla sui nostri che erano più larghi Marchisio Bacca deve andare a pressare Rugani ecco la palla di Rugani il controllo con il petto di Manzucic sbaglia Manzucic ed esce forse sbaglia Manzucic ed esce esce Pjanic allora Luca esce Pjanic ed entra Di Balla che mossa è? 4-3-1-2 4-3-1-2 e lascia i due attaccanti là davanti con Di Balla che gioca tra le linee quindi diventa il centrale diventa Marchisio e Di Balla fra le linee bisognerà stare molto attenti alla presenza di Di Balla dicevi di Chedira Luca? no Sturaro e Chedira ai lati di Marchisio cross vale Sieto Romagnoli attenzione bravo Gigio bravo Gigio chiudono i nostri recupera palla Donnarumma qualcosa da dire Sturaro ma si gioca qui Sturaro è stato forse toccato ma sono contatti non falli questi un'area di rigore vediamo la palla lunga Milan va adesso Bacca a contrastare Rugani ancora Rugani che si appoggia a Chiellini adesso si abbassa Marchisio a chiedere palla prima lo faceva Pjanic avanza Evra deve recuperare la posizione Kucca bravo Juraj che ritarda l'avanzata bianconera Luca si si Kucca sta facendo una grande partita nel primo tempo i primi minuti è stato l'unico molto realmente a tenere a galla il centrocanto attenzione Higuain chiama il fuorigioco Paletta Higuain Higuain Palettone grande Paletta grande grande Paletta chiede scusa ai compagni Higuain è chiaro che adesso però quando si aprono tre fan paura è Higuain di bala manzo che c'è si sono sono che cos'è fallo di Kucca fallo di Kucca su Sturaro andiamo eh si l'ha preso si 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 fallo anche netto momento in cui sta un po' tornando la Juve dopo le nostre la nostra attraverso e le nostre occasioni beh ma ci sta ci sta che che venga un pochino un pochino fuori la Juventus fino adesso è stata a guardare il Milan però il Milan deve avere la pazienza di di tenere e di ripartire dopo aver rifiattato un pochino Di Bala pronto a mettere in mezzo attenzione Di Bala bella palla via Palettone deve contrastare Jack colpo di testa di Alessietto che esce su Chedira esce su Chedira Romagnoli la rimessa con le mani Juventus da rifare da rifare Luca eh c'era i piedi dentro al campo eh ma sai non vedono qui non si vedono le gomitate vediamo figurati se vediamo queste finezze giustamente da regolamento vediamo Chiellini Chiellini l'appoggio a Rugani Rugani fa una bella palla in avanti per Chedira Chedira fallo di De Sciglio fallo di De Sciglio arriva il giallo naturalmente tre ammoniti Milan e Lichsteiner tranquillissimamente in campo cosa ho fatto dice Mattea è fallo sì ma non da giallo andiamo ma non da giallo calcio di punizione Juventus ancora di bala che ha un piedino che conosciamo evidentemente Luca ti vedo questa smorfia eloquente vediamo calcio di punizione Juventus in barriera Bertolacci e Jack eccolo di bala pronto a mettere in mezzo due giocatori nostri in barriera attenti a come si muovono attenti a come si muovono via la palla bacca attenzione limite scoperto limite dell'area scoperto Sturaro avanza Kucca Kucca vuole la palla bravi errore errore riparte il Minan punta Giurai punta Giurai certo non è un uomo di scatto di spunto la palla gli rimane sotto la suola poi Sturaro è andato a contrastarlo non siamo riusciti ad aprirci ho la sensazione che siamo un filo stanchi Luca speriamo che non sia vera vediamo Evra il traversone Desce è tua Desce è tua Desce è tua bravo Desci Luca mamma mia bravissimo gli ha anche amato l'uomo e lui ha avuto il coraggio la tranquillità peccato Kucca errore errore di Kucca voleva darla di tacco all'indietro ma la giocata ci stava perché Bonaventura stava entrando era da solo se la palla fosse passata sta per entrare Pasalic Luca forse al posto di Bertolacci vediamo Mandzukic loca attento loca dicevi Luca l'ha visto stanco e molto probabilmente ha bisogno di un giocatore perde palla Desci di balla attenzione Sturaro adesso è la Juventus che ci lavora i fianchi vediamo Marchisio Marchisio tiene la palla prova a darla dentro Di Bala fa una grande giocata è grandissimo Alessietto Romagnoli su Iguain palla in mezzo bravo Ignate sfondano Luca sfondano sono imprevedibili con quei tre davanti lì si muovono bene si conoscono alla perfezione Di Bala ha cambiato le cose è vero Di Bala ha fatto questo tacco nessuno sarebbe aspettato però da lui si deve aspettare qualsiasi tipo di giocata vediamo Di Bala pronto alla ripresa del gioco palla messa in mezzo Gigio respinge a pugni ancora Di Bala ancora Di Bala che la rimette in mezzo via la palla Palettone grande rinvio di Paletta tutt'altro che facile rinvio di esterno al volo Marchisio bisogna salire ora bisogna salire lasciarli là ecco Buffon Buffon attenti ragazzi attenti a questo rinvio di Buffon che non mi piace mai sono sempre rinvio al veleno quello di Buffon guarda Chiellini come è in avanti Cucca bravo Giurai porta a casa palla Giurai ecco il Loca il Loca può fare il cambio gioco bella apertura di Locatelli vale tanto oro quanto pesa punta Jack Bonave punta Jack Bonave palla dentro per Bacca Bacca in area di rigore Nesce Bacca la rimette in mezzo subito limite dell'area Loca tira Loca la respinta la respinta Juventus la rimessa con le mani nostra la rimessa con le mani nostra lo Svizzero vuole anche la rimessa laterale che non c'è ci prova sempre ci prova sempre Svizzero evidentemente inteso come nazionalità mancherebbe altro esce Locatelli Luca esce Locatelli Luca sposta vuol dire che sposta Bertolacci davanti alla difesa Pasalic al posto di Locatelli forse bisogna di più fidicità in mezzo al campo hai sperato nel tiro di Locatelli come corso a suolo sì la posizione era quella De Sciglio perde palla Jack allontana la Juventus adesso Pasalic però Luca deve entrare in partita subito controlla bene con il petto De Sciglio la mettono a terra loro attenzione attenzione ragazzi non andiamo a vuoto non andiamo a vuoto Kucca Kucca Suso dai dai Jesus attento attento recupera Kucca recupera sono andati Luca errore errore di Evra errore di Evra e va a fare falla Sturaro ancora con la palla recuperata da Abate guarda guarda i calcetti di Sturaro questo atteggiamento proprio indottrinato eh sì 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 è entrato proprio nelle nelle vesti avanza Romagnoli avanza Romagnoli possesso palla Alessietto Alessietto no troppo forzato questo lancio la perdiamo no perché lanciarla così forte no ragazzi bravo Pasalic subito fallo ha fatto bene ha fatto sentire subito che è entrato in partita gli ha fatto capire a Dybala che va bene è dura era fallo va bene messaggio subliminale di Pasalic quindi agli avversari alla partita dai cavallino croato forza vediamo allora il giropalla Juventus Chiellini Chiellini avanza prova a lanciare in profondità Lichsteiner deve andare a chiudere Desci bravo Mattia rimessa con le mani non angolo per la Juventus ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa sempre uno a uno Lichsteiner Di Bala Di Bala supera Jack Jack si dà da fare in sacrificio Lichsteiner mette in mezzo attenzione ragazzi vi prego la schiaccia Higuain poi la porta fuori Kucca palla rovesciata in avanti la controlla Gigio in assoluta sicurezza questa palla Luca sì dobbiamo dobbiamo stare tranquilli avere un attimo di pazienza perché la Juve ci sta ci sta lavorando ai fianchi come hai detto te prima sta pressando tanto e molto probabilmente l'entrata di Di Bala è è stata fondamentale per loro gli ha dato quella quella carica quella spinta in più Chiellini adesso c'è questo ritorno della Juve nella partita dopo un ottimo primo quarto d'ora di ripresa nostro Marchisio giro palla Lichsteiner il lancio in avanti Higuain Alessietto Romagnoli va a chiuderlo la palla esce la rimessa con le mani è Juventus ancora con Lichsteiner ancora Higuain che restituisce loro sentire un po' di stanchezza anche loro no Luca vediamo Marchisio Marchisio Di Bala attenti ragazzi attenti il tiro di Di Bala mamma mia gran tiro di Di Bala da fermo Luca si ha sfiorato ha sfiorato il palo te l'ho detto da lui ti devi aspettare da fermo Luca in qualsiasi momento da fermo mamma mia grande occasione Juventus dal nulla Paolo Di Bala ha sfiorato il 2-1 a loro favore grande giocata sua allora c'è la ripresa del gioco a favore del Milan con Donnarumma il lancio in avanti il colpo di testa di Sturaro va in Agnazio Bertolacci da palla dietro Paletta attenti ragazzi che loro vengono su a pressare Donnarumma il lancio in avanti Kucca va a duettare con Chiellini Sturaro ancora Pasalic fallo fallo di Chedira su Pasalic sguardo torvo di Chedira all'arbitro ma il fallo mi sembra ovvio ed evidente a terra Sturaro che guarda la panchina Luca cambio cambio ho letto labiale credo cambio quindi sta per uscire Sturaro a Juventus certo non mancano i cambi no sicuramente no ne ha quanti ne vuole Allegri a disposizione ma poi tutti di di ottima qualità vediamo allora Sturaro che sta per lasciare il campo inquadrati Niang e Sosa entra Lemina Luca a questo punto mette Lemina davanti alla difesa e sposta Marchisi al posto di di Sturaro è un altro giocatore di di grande qualità grande corsa qui Allegri non ha lasciato Landucci a spiegare le cose a Lemina ha voluto andarci lui segno che insomma quella preoccupazione che dicevamo l'importanza della sostituzione secondo me Allegri sa che comunque è un momento importante della partita momento in cui la Juventus sta pressando ha il pallino del gioco in mano e quindi vuole dare le direttive direttamente lui senza demandare nessuno Sturaro lo ha usato come uomo di rottura come uomo di pressione è un giocatore che serve a quello perché ha buone qualità ma è più che altro un giocatore di di corsa di quantità invece Lemina è un giocatore di di grande qualità Palettone pronto ad appoggiare ad Alessio Romagnoli Alessio la tocca dentro per Andrea Bertolacci Cucca torniamo indietro ancora Palettone Paletta fa la palla lunga salta al centrocampo va diretto Subacca il colpo di testa di Lichsteiner voleva prenderla Pasadice e poi lì non abbiamo non abbiamo la capacità di accorciare riparte Di Bala siamo un po' lunghi Luca siamo stanchi ecco l'avanzata di Lemina servito da Di Bala vediamo Lemina lo aspetta Abate entra in area Evra Di Bala gran tiro Gigio se l'è visto arrivare davanti all'ultimo gli è rimbalzato davanti è stato bravo comunque a rimanere in posizione però ora stiamo subendo un po' un po' troppo siamo stanchi non ripartiamo più Bertolacci gira di là per Paletta momento in cui stringere i denti e sperare che prima o poi si stanchino anche loro Suso Suso viene in mezzo al campo a giocare Suso se l'allunga Suso gran recupero di Marchisio palla dietro di Chiellini ancora Buffon Buffon rilancia in avanti la palla esce tocca Matti Mattia De Sciglio adesso rimette il pallone in gioco qui rivediamo il tiro di Di Bala di poco fa è qui recupero di Marchisio momento della partita in cui siamo un po' sotto dobbiamo saperci stare puoi provare a guizzare in avanti ancora dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi punta Jack controlla Jack palla indietro per Desci Desci la mette in mezzo al campo per Bertolacci Bertolacci gioca un tocco Luca eh sì di spalle con l'uomo con l'uomo le spalle è giusto far quel tipo di di giocate Abate e Suso qui non si capiscono Abate ha dato la palla in profondità Suso invece stava andando incontro bisogna bisogna avere un attimo bisogna avere pazienza bisogna cercare di giocare la palla rifiatare cercare di riprendere un po' di forze e ripartire come eravamo come eravamo partiti secondo tempo fuori gioco fuori gioco Juventus calcio di punizione Milan calcio di punizione Milan era rientrato da fuori gioco qui Wayne questo è il momento e allora avanza Suso punta Suso Jesus Jesus il cross Buffon Buffon hai pensato anche tu per un secondissimo breve che la perdesse? sì no che non ci arrivasse neanche c'era Pasalic sul secondo palo libero da solo Marchisio per le mina attenzione bravo Andrea Bertola ma non gliela porta via bene poi subisce il tunnel Pasalic attenti ragazzi non stiamo in soggezione vi prego Di Bala Di Bala di qua è un problema Matti Mattia prendilo Matti prendilo Matti ancora le mina le mina la gira di qua perché tira che tira va al cross la deviazione è nostra perché Mandzukic gli è rimbalzata sulla scapola e l'ha deviata con la scapola qui era in mezzo a due dei nostri perché la prende prima paletta poi gli rimbalza sul petto ed esce è stato bravo Ignazio a coprire e paletta a prendere la palla però il Milan si è abbassato troppo stiamo stiamo subendo troppo le le giocate della Juventus c'è un forza Milan dai tifosi rossoneri allo stadio di Do attento Gigio attento Gigio palla lunga Gigio vediamo se la prendiamo noi no la prende Chiellini balza di testa Pasalic Andrea Bertola la mette giù per Kucca rischiosa questa giocata nostra poi Pasalic riesce a avere la meglio bravi alla fine Kucca e Pasalic giocate difficili ma efficaci perché la palla è ancora nostra De Sciglio buonaventura buonaventura viene in mezzo a giocare Jack la palla di là per Palettone vediamo se riusciamo a tornare un po' su Luca con un po' di uomini vediamo Suso Suso avvicino a segna Ignazio ecco Suso 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 il Crotis Suso la deviazione di Buffon la grande occasione nostra che palloni da Suso Buffon li ha salvati ancora Buffon li ha salvati ancora traversa beccato vediamo no la salvata sulla linea Buffon c'è la goal line technology? chissà se c'è la goal line technology andiamo era fuori ma dio mio questa volta l'ha presa fuori Gigi una volta fermati Gigi una volta dai ragione agli altri hai sempre ragione tu non è giusto Pasaric Pasaric tiro deviato Kucca Paletta la gira per Ignazio Ignazio ancora Suso 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 dai col piedino Suso dai dai col piedino Ignazio Ignazio buon cross deviato dai Milan dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi che occasione bacca Luca Suso 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 dai Jesus dai Jesus Jesus grande palla Palettone anticipato l'ultimo la palla è ancora nostra assedio quando ha la palla Suso li mettiamo sempre alle corde Jack tiro loro in palla paletta allontana la Juve assedio assedio di questi attimi desci 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 tiro la palla è andata via ce l'avevi creduto? sì era partita bene poi l'ha visto convinto poi uscita peccato è andata fuori anche di tanto però questo deve fare in Milan deve stare lì pressarli perché l'occasione in Milan poi ce le crea Amale Chiellini che occasione bacca ragazzi che occasione bacca sullo stesso palo su cui aveva sfiorato la palla di Kucca inizio ripresa eh ma ha fatto una una grandissima parata Buffon tutto made in Suso tutto di fabbricazione Suso c'è quel piedino che è fatato è fatato vediamo allora Buffon pronto a mettere in mezzo il pallone in mezzo al campo balza di testa Kucca ma lo tiene giù Manzo chi c'è ancora Abate Abate aspettato da eliminare torna indietro di Milan attenti ragazzi Gigio anticipa Iguain poi mette il petto Chiellini è in vantaggio l'appoggia a Marchisio Marchisio che dira scivola Pasalic perché scivola sempre il caballino croato Luca vediamo allora l'impostazione di di Lichsteiner Jack si ferma lascia che vada De Sciglio secondo palo Igna è tua Igna è tua bravo col petto Luca è stato bravo Gigio gli ha chiamato solo e Ignazio con tranquillità serenità gliel'ha appoggiata dietro bravo viene in mezzo al campo a giocare Kucca attento Andrea Bertola bravo per Matti Mattia avanza avanza perché Bacca è qui Luca vediamo allora Bacchitos Bacchitos che dà palla indietro vai avanti Bacchitos vediamo Alessietto per Desci ancora Milan De Sciglio attiene palla Romagnoli Paletta Ancora Ignazio dentro per Suso Suso punta Suso punta Suso punta Kucca gliela restituisce Suso viene di qua a giocare Paletta subito per De Sciglio qui guadagniamo un tempo di gioco attenzione Pasalic ancora De Sciglio si sente forza Milan a Doha De Sciglio una bella palla Suso bel cambio gioco punta Jesus punta Jesus punta Jesus palla deviata secondo palo anticipato Pasalic anticipato Pasalic facci urlare Jesus Fernandez prima o poi facci urlare deviata da Evra questa palla dopo la deviazione è diventata ancora più insidiosa Luca eh sì sì perché ha cambiato ha cambiato giro mamma mia che giocatore che è Suso incredibile non ti lasceremo mai urlano a squarciagola i nostri tifosi buonaventura dalla bandierina Jack dalla bandierina Jack palla messa in mezzo colpo di testa anticipato Kucca va sulla palla Suso la porta via lui ma c'è Bacca c'è Bacca fuori dall'area vediamo Bacca Bacca la porta indietro Milan in attacco nel finale di partita supplementari che si avvicinano Bacchitos Bacchitos perché Bacca è lì Bacca deve andare in area vediamo allora Ignazio per Palettone Palettone per Kuccone ancora giro palla Milan vediamo siamo tornati su noi Luca siamo tornati su noi è la parita dei basi comunicanti un po' su loro un po' su noi attento Pasaric bravo bravo Cavallino Croato ecco Jack Jack la larga giusta per Jesus Fernandez punta Jesus punta Jesus punta Jesus punta Jesus il tiro rimpallato hanno paura di Suso si immolano Kucca Kucca la fa la scucchiaia la scucchiaia male 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 Giurai no no dare il contropiede così Dio mio una palla molla è data scucchiaiata male in contropiede Higuain Higuain avanza attenti ho paura attenti ho paura palla dentro bravo Ignazio bravo Ignazio Palette Abate lo nascondono bravi ragazzi gran disimpegno Milan dai incoraggiate i nostri punta Giurai vai trattore vai trattore andiamo a trattorare Giurai ecco Jesus ecco Jesus 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 ancora Jesus Fernandez Jesus Fernandez no sperava che ci fosse uno dei nostri e invece c'era il truce Chiellini in mezzo bravo Ignazio a prendere il suo pallone grande Ignazio non voleva neanche il fallo Igna Luca così bisogna tenerlo girato non voglio far se si gira poi è pericoloso di bala invece lo accorciamo subito bravo Ignazio ha fatto bene a fare fallo almeno rifiutiamo un attimo vediamo Rugani che avanza e controlla Chiellini che appoggia a Marchisio Marchisio restituisce ancora Chiellini l'appoggio ad Evra Juventus che ha messo Evra Leminà e Di Bala cambi terminati in Coppa Italia la Juventus che è la partita la finale di Coppa Italia che ha prodotto questa gara aveva vinto con i cambi Quadrado e Morata vediamo l'avanzata di Chiellini Chiellini dà questa bella palla dentro che dira bravo Igna bravo Igna palla monumentale questa bravo Jack che non la perde mai grande Jack per il cavallino croato Pasalic Pasalic colpo di tacco la tiene in campo Jack bravi Jack e Pasa bravi bravi ancora Desci Desci la tiene la mette in mezzo al campo bravi lucidi razionali padronanza bravi palettone per Igna Ignazio ancora giro palla Milan punta Jesus punta Jesus punta Jesus punta Jesus bella palla Jesus vai Jack Bonave vai Jack Bonave vai Jack Bonave il cross il cross la palla no non la prende Pasalic non se l'aspettava non se l'aspettava Luca non se l'aspettava Peccato peccato dice Luca Antonini ha dovuto attorcigliarsi tutto con il corpo non ha trovato la coordinazione peccato perché sarebbe stato davanti a Buffon peccato vediamo al novantesimo iniziano i tre minuti di recupero siamo sull'orlo dei supplementari vediamo Buffon Buffon l'appoggia Rugani palla lunga Rugani va Romagnoli la prende Mandzukic ancora Romagnoli bravo dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi Igna Ignazio Igna Ignazio la tiene la controlla Igna vai Igna vai la palla ancora Suso senza fine Suso senza fine eccolo eccolo Suso eccolo Suso Suso fa una bellissima giocata per Jack da una parte all'altra del campo Jack 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 la tiene la controlla va di là torniamo a destra Igna Ignazio bella palla bella palla Pasalic siamo avanti Suso 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 cross bella Bacca è finita alta è finita alta la voleva più morbida Luca la voleva più morbida la voleva più morbida si è allargato ha fatto un gran movimento Bacca ha fatto un gran movimento Suso l'ha visto peccato che non era mamma mia Luca avremmo meritato la vittoria Luca avremmo meritato la vittoria non questo pareggio pareggio ingiusto a questo punto Marchisio tiene palla e appoggia Chedira grandissimo Suso dominatore della partita fattore decisivo vediamo Chiellini Chiellini avanza anche se la partita è senza fissa di mora sbaglia Chiellini sono stanchi anche loro Mauro sono stanchi anche loro sono stanchi anche loro e il Milan è venuto fuori alla fine è venuto fuori si è risparmiato un po' in quei dieci minuti in cui la Juve ha cercato di attaccare e ora è venuto fuori non l'ha tenuta in campo Evra la rimessa con le mani di Igna Ignazio Abate Forza Milan si sente il Forza Milan preponderante in questo momento il Forza Milan Palettone la lancia in avanti questa palla Palettone il colpo di testa Juventino il recupero di Marchisio Marchisio si gira piruetta su se stesso Marchisio tiene la palla vediamo Marchisio la tocca all'indietro per Rugani Lemina lenta in avvio l'azione Juventina palla dietro di Lemina vediamo l'avanzata di Chiellini Chiellini l'allarga per Evra Evra contro Abate il cross attenti ragazzi colpo di testa sfiorato da Mandzukic con la nuca va Bonaventura la scucchiaiata in avanti per Pasalic anticipato da Lemina che la ripropone subito per Marchisio attenti che ha guadagnato un tempo di gioco ragazzi attenti attenti ragazzi Marchisio fa salire Chiellini Chiellini la restituisce di qua Lemina ancora la tiene in campo il giocatore Juventino il tocco dentro per Di Bala ancora Marchisio e si va alla fine della partita Luca è pazzesco nella storia sia in Coppa Italia sia in Champions League che in Supercoppa nelle finali secche Milano e Juve non hanno mai finito nei 90 minuti a Roma nel 73 i rigori a Manchester nel 2003 i rigori a Washington nel 2003 Supercoppa i rigori e in Coppa Italia quest'estate i supplementari cioè Milano e Juve partita secca finale non finisce mai al novantesimo stasera doveva finire al novantesimo per l'occasione che ha avuto in Milan meritava assolutamente la vittoria però è così le finali di Milano e Juve sono queste e quindi un 1-1 pieno rotondo che ci ha visto protagonisti Luca un 1-1 in cui nel secondo tempo siamo stati meglio della Juventus siamo stati più pericolosi più continui più intensi loro sono forti a livello di singoli ma noi come squadra con quel suso con quel buonaventura con questo nostro spirito nel secondo tempo abbiamo fatto meglio di loro sicuramente sicuramente il Milan ha iniziato come aveva finito il primo tempo ha iniziato il secondo tempo come ha finito il primo tempo e ha dato alla Juve 10 minuti per per attaccare ha rifiattato il Milan e poi è ritornato fuori lo squadra lo spirito la voglia di di portare a casa questa questa partita meritando perché se guardiamo le occasioni avute dal Milan sono molte di più rispetto a quelle della Juventus e poi sono nette in uno ha fatto un miracolo buffon l'altro ha beccato la traversa Suso da questa parte quando prende palla sia Evra che Sturaro hanno l'ansia perché non sanno mai dove dove possa andare e dall'altra parte è uguale a Buonaventura secondo tempo abbiamo preso la traversa abbiamo avuto due volte bacca ad un sospiro dal gol insomma trovo in giù è vero trovo ingiusto questo 1-1 finale trovo ingiusto avremmo ampiamente meritato la vittoria nei 90 minuti sicuramente sì sicuramente sì loro hanno avuto occasioni da fuori area come nel primo tempo quando attaccavano però a tu per tu con Donnarumma non ci sono mai arrivati ecco loro hanno i tiri da lontano hanno solo quelli però la Juventus ha sempre fatto la tu per tu col portiere quindi vuol dire che la difesa del Milan sta andando bene vuol dire che riusciamo a tenerli lontani qui bacca bacca ha avuto tre palloni sul secondo palo è uno di Kucca e due di Suga ma perché fa dei movimenti ad andare incontro e poi smarcarsi un secondo palo è veloce è rapido e poi Suso lo conosce alla perfezione sa dove vuole la palla lo guarda guarda il movimento del compagno si conoscono alla perfezione adesso sono 30 minuti di fuoco Luca di tensione di equilibrio di difficoltà ora vai avanti con il cuore con la voglia con la testa perché comunque le forze iniziano a scarseggiare la corsa viene un po' meno però io conto sul fatto che questi ragazzi abbiano un cuore grande come una casa tenere la palla dice il mister Luca tenere la palla sì perché è l'unico modo che abbiamo per rifiatare e nello stesso tempo creare quelle occasioni che la Juve ci ha permesso mi sembra che Marchisio stia dicendo qualcosa a Higuain su come si muove Higuain non mi sembra felicissimo Marchisio di quello che gli sta dicendo ma non credo che non sia felice neanche Higuain perché sta facendo una partita al di sotto delle sue qualità e devo dire che Paletta e Romagnoli stanno facendo una partita eccezionale non lo fanno girare mai lo anticipano di testa gli mangiano la palla in testa devo dire che Higuain questa sera finora non ha fatto l'Higuain è incredibile come Buffon vada a caricare tutti questo ti fa capire quanto sia ancora grande la sua voglia di vincere dopo tutto quello che ha vinto dopo la carriera strepitosa che ha fatto sì però una volta lasciala adesso basta una volta lasciala lo capisco è dura è dura lasciarla è dura Mauro lasciarla quando vedi davanti una coppa te la vuoi portare sempre a casa vediamo Buffon perché solo Buffon con l'arbitro perché diamo anche noi dopo la mancata espulsione di Lichsteiner diamo i tifosi di Doha ho visto un sorriso nervoso però di Buffon sì sì Luca Antonini con noi per la finale Supercoppa di Lega anche Igna sta a gioco questo campo va bene complimenti sì Gigi lascia andare eh è un po' il tuo Gigi ecco vediamo vediamo e che dire Lichsteiner tempi supplementari a Doha Milan TV finale di Supercoppa italiana 23 dicembre 2016 ce la stiamo giocando la stiamo contendendo la stiamo vivendo al fianco dei nostri ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi andiamo Gigio inquadrato poi i tifosi milanisti tanti Amato sta per dare il là al primo dei due tempi supplementari a Doha come sempre nelle finali secche fra Milan e Juventus non si finisce mai entro il novantesimo ecco la possesso palla Juventus con Chiellini Chiellini dai in avanti recupera palla Giurai la porta su Giurai per Suso Suso la tiene in campo la appoggia Bertolacci ancora Abate Milan che deve venire avanti piano ma venire avanti bene ecco il tocco di Desci per il cavallino croato che restituisce palla Matti Mattia ancora l'appoggio a Pasalic Pasalic deve guardarsi dall'intervento di Chiedira torniamo indietro prendiamo campo prendiamo tempo proviamo ad avanzare Romagnoli per Abate dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi ecco allora Jesus Fernandez Bel tocco all'indietro di Cucca per Ignazio ancora la palla dall'altra parte Romagnoli mi piace questo controllo organizzato del pallone da parte del Milan questo giro palla in cui non ci sono errori perché sai cosa fare eh sì poi ci si muove tutti si trova sempre in modo per aiutare il compagno con la palla Abate per Suso 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 se ne va Suso se ne va Suso se ne va Jesus Jesus grande palla ancora vai Jack vai Jack vai Jack tira Jack Bacca Bacca perché non fai gol Bacca Dio mio Bacca avanza la Juventus avanza la Juventus contropiede guarda guarda grande grande desci che occasione che occasione ragazzi Bacca bisogna fare gol è il quarto Carlitos Dio mio vediamo Pasalic Ancora il possesso da parte di Andrea Bertola Andrea Bertola la gira di qua dove c'è Jesus Fernandez che non finisce mai che non finisce mai ecco Lemina eh d'altronde ogni tanto è un errore ci sta che lo faccia anche Suso è povero ha giocato una partita a sfinimento tecnico e fisico di se stesso e degli avversari grande Suso Buffon qui dobbiamo buttarla dentro Luca vediamo allora l'avanzata da parte della Juventus ancora il controllo Rugani per Lemina Lemina davanti a Secucca Lemina palla dentro la recupera Andrea Bertola per Suso Suso Bacca di prima di prima Jack Jack eh troppo lunga troppo lunga c'era Bacca libero c'era Bacca libero in mezzo Jack ha voluto metterla sul secondo palo qui rivediamo il tiro di Jack la respinta di Buffon perché lì non bisogna stopparla lì bisogna buttarla dentro con l'anima lì bisogna buttarla dentro con l'anima hai la palla hai la porta buttala dentro Dio mio ce l'aveva anche perfetta per buttarla dentro buttala dentro Dio mio porta vuota Dio mio Bacca Dio mio vediamo la ripresa del gioco a cura della Juventus con Buffon il lancio in avanti colpo di testa di paletta poi la prende Alessietto Romagnoli ancora Desci Desci la gira dall'altra parte per Jack Bonave Jack Bonave la tiene in campo bravo Jack palla dietro di Bonaventura per Romagnoli noi negli ultimi anni su questa giocata qua di Bonaventura eravamo sempre in difficoltà perché Bonaventura non aveva lo scarico organizzato gliela rubavano sempre andavano in porta invece qui siamo in posizione per ricevere quella palla di Bonaventura ad esempio ci troviamo smarcati ci facciamo vedere è importante per un compagno che ha la palla sapere che puoi sempre contare su più di un compagno libero è tornato indietro Abate palla lunga di Abate Chiellini la mette fuori Chiellini siamo partiti bene anche inizio secondo primo tempo supplementare la Juve non prova neanche più a giocare non prova neanche più a giocare primo tempo una palla così Chiellini l'avrebbe stoppata e provata a giocare ora no hanno paura perché la vemezza del Milan è con Suso soprattutto perché è quello che crea Suso ancora più preoccupazione Suso ancora Suso ancora non riescono a portargli la via mai angolo porta a casa l'angolo Jesus Fernandez porta a casa l'angolo non gliela portano mai via Luca mai o la passa indietro o crossa o regala assist o mai fa tutto lui non gliela portano mai via e sono più i cross di destro che quelli di sinistro cosa vuol dire Luca? è che è forte in tutti e due modi quindi è imprevedibile Suso palla messa in mezzo deviazione di Buffon va a palettone palla nostra Jack la mette in mezzo allontana la Juventus ed esce Gigione Donnarumma a prendere palla e ad appoggiare la Juve star Mauro ancora in avanti Pasalic per Matti Mattia De Sciglio punta Matti Mattia punta e tocca ecco allora Bertolacci di prima il cavallino croato appoggia ancora Buonaventura 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 fa il cambio gioco di là per Suso che la tiene in campo anche questa Luca anche questa Luca anche questa vediamo Suso Suso bella palla in mezzo messa fuori dalla Juventus ma è ancora nostra la seconda palla è sempre nostra dai ragazzi vediamo Suso Suso contro Evra vai Suso vai vai Suso si ferma Suso si ferma qui ha rischiato di perdere va stanco anche lui grande Suso palla messa in mezzo angolo li sta sfinendo Luca li sta sfinendo Luca guarda l'atteggiamento di Evra lo fa andare apposta sul destro però non ha capito che sul destro è ancora più forte stasera non porta mai l'assalto Evra mai mai lo fa girare si fa puntare sempre Suso vai Jesus Fernandez vai eccolo Suso pronto a mettere in mezzo palla deviata Bacca Bacca fallo di Bacca su Lichsteiner fallo di Bacca su Lichsteiner è vivo Bacca è sempre nel vivo del gioco qui però doveva aver già fatto un gol eh sì ha avuto quest'ultima occasione che un giocatore come lui fa gol di prima è un gol da da rapinatore d'area qualcuno come lui l'avrebbe dovuto fare un gol così Chedira Chedira la porta su allora c'è il controllo di Marchisio sull'1-1 di Doha tante recriminazioni tante occasioni per il Milan che strameriterebbe il vantaggio in questa finale di Supercoppa avanza Chedira Chedira studia la situazione torna indietro il Milan è lì che vigila vediamo allora la palla di Rugani il tocco laterale per Licksteiner Licksteiner la dà in avanti arriva e fa fallo Alessietto Alessietto fa fallo cosa dici Luca? è ammonito non deve stare davanti al pallone Romagnoli che fallo è dice Romagnoli all'arbitro D'Amato vediamo Chedira Chedira la restituisce Di Bala ancora Chedira giro palla Juventus Chiellini servito ancora Evra Evra la mette in mezzo abatte la devia il tocco all'indietro di Evra riparte la Juventus con Chiellini è una partita questa in cui o siamo tutti avanti noi o sono tutti avanti loro è equilibrata in questo senso che gioca a dieci minuti una a dieci minuti l'altra si alternano però il Milan deve approfittare delle occasioni che ha questo è il Milan naturalmente vediamo Marchisio Marchisio Manzuki c'ho paura che dire grande Andrea Bertola bravo Andrea Bertola intervento di giustezza preciso chirurgico bravo Andrea Bertola non la porta via Andrea Bertola ma ritarda all'avanzata della Juventus che però percuote con Evra Palettone non c'è disimpegno nostro vai Andrea Bertola in vantaggio vai Andrea Bertola in vantaggio attento Andrea Bertola attento Andrea Bertola fallo porta a casa al fallo Andrea porta a casa al fallo Andrea fallo commesso da Marchisio Bertolacci si arrabbia con Marchisio si perché è un fallo e gli schiaccia il piede eh si da dietro poi la palla dall'altra parte un po' un fallo da Furbetti otto minuti di gioco nel primo supplementare extra time Doha vediamo paletta sulla palla Marchisio serva il Milan a testa alta dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi Alessietto la porta la controlla Palettone palla restituita da Alessietto vediamo vediamo Alessietto che aspetta un attimo prima di far passare prima di far partire il lancio prima di far partire il pallone Gigio Gigio fa la palla lunga verso Bacca è in vantaggio Rugani di testa Pasalic poi Jack Jack la restituisce al cavallino croato che la tocca con la punta attento è brutta è stato più bravo è scaffato di lui brutta palla Pasalic persa avanza adesso Marchisio brutta palla persa nell'uno contro uno grande Kucca ma il rimpallo favorisce la Juventus ancora il pallone di Marchisio Marchisio avanza Marchisio studia la situazione palla dentro perché dira è libero bravo 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 Alessietto Pasalic fa subito ripartire Jack Bonale Jack Suso no no ma perché ma perché ma perché troppo corta perché grande idea di Buonaventura per Suso stava andando in porta Luca stava andando in porta Luca la tirava troppo piano troppo piano la passata era troppo corta adesso se ne va di balla bravo Andrea Bertola dai dai Jack punta Jack punta Jack attento Jack che ci elimina attento Jack Bacca Bacca fa salire la squadra Pasalic gli restituisce palla attenti a non perderla ragazzi attenti a non perdere Andrea Bertolacci Andrea Bertolacci facciamo salire Abate lo portiamo su ecco Igna Ignazio che ha davanti a sé Suso lo serve eccolo Suso seguito da Manzio Suso 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 va sul fondo Suso e gli esce questa una palla di stanchezza ci sta d'altronde d'altronde non è un giubbocco Suso un essere umano è un calciatore che ha corso l'ira di Dio mamma mia Luca un giocatore incredibile mi sono innamorato di Suso stasera Tiene palla la Juventus con Marchisio l'appoggio ancora a Lemina ancora Lemina che restituisce Alic Steiner Marchisio sta per entrare qualcuno fra poco lo vedremo che dira che dira per Marchisio Marchisio in buca Juventus che prova ad avanzare ma Abate chiude bene cosa Abate Crampi Abate speriamo Crampi Crampi Crampo Ignazio Crampo Ignazio Crampo Ignazio sta per entrare la Padula sta per entrare la Padula al posto di chi la Padula Lucchino al posto di chi secondo me potrebbe far uscire Bacca perdi un rigorista importante non lo so perché se no chi potrebbe far uscire vediamo o fa uscire un centrocampista ah entra anche Antonelli entra anche Lucchino Antonelli quindi mette freschezza mette vivacità Montella nella partita e Scignazio e Scignazio quindi mette De Sciglio a destra Antonelli a sinistra Luca sì 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 però voglio vedere chi entra quando entra la Padula al posto di chi esce Bacca c'è Bacca lì vicino Desci diventa capitano era il vice esce Bacca esce Bacca eccolo Gianluca eccolo Lapa Luca Antonelli va a dire qualcosa De Sciglio quindi Lucchino si mette a sinistra la palla adesso è lavorata da Gigio Luca avranno gli avrà detto il cambio magari l'uomo da marcare sul calcio d'angolo calcio in punizione di solito si dice quello al compagno quando si entra lancio lungo di Donnarum la Padula va subito a sportellare e allora c'è il lavoro di Buffon Buffon che appoggia su Licksteiner Marchisio si gira e restituisce palla Chiellini Chiellini per Evra Evra contro Suso lancia il pallone in avanti a tutta Chiellini va pallettone di testa palla persa Higuaino Higuaino bravi 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 bravo Antonelli D'Amato non ha avuto la benché minima esitazione ha accennato una protesta Higuaino guarda di sbieco l'assistente l'addizionale avanza Giurai più avanti rivedremo punta Suso punta Suso punta Suso sono stanco io per quanto può essere stanco Suso Luca davvero vediamo allora Desci 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 che deve prendere confidenza con la fascia cambiare fascia guardi il campo dà una prospettiva diversa cambia tutto Lucchino Lucchino per ancora palla dentro bella Luca Luca arriva sul fondo non esce non esce schizzata la prende all'ultimo vediamo qui cosa è successo ma dai l'aveva già persa eh sì la persa ormai l'aveva già persa persa ma è cascata da solo dai qui aveva fatto bene su Romagnoli però non l'ha neanche toccato quella paletta attenzione alla Juventus che avanza la tiene in campo la tiene in campo di Steiner Bertolacci in seguito il suo avversario grande Jack che cosa ha fatto Jack peccato non aver servito i compagni l'avrebbe strameritato ha fatto una grande giocata a Buonaventura e allora giro palla Juventus Chiellini Chiellini la restituisce dai Lapa andiamo a contrastare vediamo allora Licksteiner per le mina in scivolata Antonelli rimessa nostra ha dato fallo ha dato fallo Luca ha dato fallo Antonelli ha grande voglia e sprizza energia ma si ma questo ha preso palla lo fischiato fallo all'arbitro D'Amato ha dato fallo si palla eh però dopo eh però l'ha preso l'ha preso bene Luca l'ha preso bene Luca è arrivato anche con la punta del piede sul ginocchio vediamo sull'1-1 a fine primo supplementare extra time dai ragazzi dai dai Leminà Leminà lo osserviamo sembra Klopp uno dei tifosi presenti in tribuna colpo di testa fallo fischiato contro l'attacco bianconero e siamo ormai alla fine del primo supplementare fallo di Guain Luca spinta su Antonelli e allora adesso c'è probabilmente col presidente federale Carlo Tavecchio finisce il primo tempo supplementare un minuto di recupero perché un minuto di recupero forse i cambi forse i cambi vediamo Milano ha fatti due 30 secondi a cambio la ripresa del gioco a favore del Milan con Lucchino Antonelli grande tensione la tensione avviluppa anche la tribuna d'onore a Doha ecco Lucchino Antonelli Lucchino palla lunga di Andrea Bertolacci va la padula va la padula pressa Jack avevi sperato che gliela portassi via si 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 crampi crampi Juve andiamo ecco Renzo Rosso andiamo Gianluca Galiani andiamo andiamo sulla partita e ma ormai manca poco ormai manca poco siamo tornati indietro speravamo che la nostra azione fosse progredita in avanti finisce il primo supplementare Luca siamo lì siamo lì a sperare siamo lì a ancora a inseguire a pensare a quelle occasioni che abbiamo lasciato sul campo abbiamo avuto anche in questo in questo tempo supplementare un'occasione grandissima con con Bach che non è stato lesto deciso nel buttarla dentro abbiamo dimostrato che che ci siamo abbiamo ancora il cuore perché magari le forze iniziano iniziano a mancare andiamo avanti con il cuore ci rimettiamo un po' nelle mani di di Suso che ha fatto una partita eccezionale ha sempre puntato l'ha sempre superato l'avversario ha messo palle in mezzo incredibili sia di destra che di sinistra un giocatore che ha fatto veramente la differenza questa sera ma tu se dovessimo arrivare i rigori ce la fai a commentare te lo dico dopo dopo quest'altro supplementare spero che finisca la partita 1 a 2 perché aiuto Milan vediamo 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 fra poco si riparte devo dire un gran bel Milan devo dire un Milan alla pari se non meglio della Juve sicuramente meglio posso dirlo riguardandomi un po' in testa la partita il Milan ha dimostrato di essere stasera di essere superiore superiore alla Juventus superiore alla Juventus come occasioni superiore alla Juventus come cuore come come voglia di combattere come voglia di portare a casa questo trofeo che questi ragazzi se lo meritano con tutto con tutto quello che hanno fatto in tutta la partita se lo meritano alla grande quadrato Vincenzo Montella il nostro allenatore che ha costruito una squadra che ha costruito una bella squadra un bel gruppo un bel modo di stare in campo una grande mentalità anche una grande mentalità perché anche nelle difficoltà pur essendo così giovani non buttano mai via il pallone questa è una una cosa che che serve ai ragazzi per per creare quella consapevolezza nei loro mezzi che anche nel momento di difficoltà non manca mai Palettone gira la palla di là verso Desci secondo supplementare Extra Time Doha dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi Palettone Palettone la gira di qua per Alessietto Alessietto chiama in causa Lucchino Antonelli ancora il Milan ancora la squadra ancora i ragazzi la teniamo noi proviamo a vedere cosa succede ecco il pallone per Suso Suso ingaggia un nuovo duello Suso guarda i bras Suso gioca sullo stretto sul corto per Kucca che prova a andare di tunnel ma insomma Marchisio brutto cliente errore Mandzukic Jack 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 si gia peccato peccato voleva liberare Antonelli invece hanno chiuso loro bravo bravo Alessietto Romagnoli ma il rimpallo favorisce Steiner grande Pasalic Milan che lotta Luca hanno un cuore grandissimo questi ragazzi hanno una voglia di arrivare alla fine di portare a casa questa vittoria si vede ogni palla mezza e mezza arriva prima il Milan Milan sta meritando clamorosamente questa supercoppa Chiellini restituisce palla a Rugani ancora Chiellini continuano a scambiarsi palla i due centrali della Juventus adesso rompe gli indugi Chiellini prova ad avanzare attenti ragazzi vi prego Chiellini la dà indietro ancora a Chedira insiste nel controllo la Juventus ancora l'appoggio a Lichsteiner Lichsteiner tocca dietro Rugani servito Chiellini avanza Chiellini palla lunga Chiellini Iguain Iguain di bala ha capito il pericolo ha intuito il pericolo Pasalic dietro per Gigio Gigio nostro che rinvia tutto su Suso Evra è andato a dargli la botta Attenti Attenti Iguain 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 grande Gigio via la palla Alessio la palla era di Suso Evra ad esperienza gli ha dato il colpo di petto da dietro però questo è bravo Romagnoli a portarlo il più esterno possibile per chiudergli lo specchio della porta calcio d'angolo Juventus Di Bala vediamo Di Bala che mette in mezzo esce Gigio esce Gigio esce Gigio vuole dare la palla subito al cavallino croato contro piede contro piede Suso 4 contro 3 4 contro 3 Luca 4 contro 3 Luca Jack Jack in area Jack in area Jack c'è lì c'è lì il cavallino croato il cavallino croato tira tira fuori c'era libero la padula c'era libero la padula grande contropiede nostro non l'abbiamo buttata dentro neanche questa volta Lucchino gli ha preso il giro la voleva mettere sul secondo non ha visto la padula che era solo aveva la testa bassa Pasaric mi sembra entrato bene eh sì si è entrato con la voglia con la cattiveria giusta è entrato subito sui piedi di Di Bala pronti via quindi gli ha fatto capire che era già entrato in partita avanza Chiellini paletta percussione nostra break nostro break nostro break nostro palettone palettone Suso bella palla di palettone per Suso Suso avanza Suso controlla Suso Suso cambia il passo il tiro deviazione di Chiellini Andrea Bertola recupera palla ancora Suso quante volte l'abbiamo nominato Luca quante volte l'abbiamo nominato fornitore ufficiale di emozioni Jesus Fernandez vediamo allora palettone il lancio in avanti per l'Apa che va nello spazio l'Apa l'Apa la mette in mezzo l'Apa l'angolo calcio d'angolo no no semplice rimessa dal fondo la Padula ha fatto cenno d'intesa con Paletta che gli ha lanciato palla in avanti Marchisio la porta su Lichsteiner il lancio ancora per Higuain Higuain prova a liberarsi di Bertolacci palla lavorata dall'altra parte per Chedira attenti ragazzi vi prego avanza Chedira vediamo Marchisio Marchisio dà la imbucata dentro fallo fallo non l'ha mica fischiato non l'ha fischiato non l'ha mica fischiato Luca l'ha spinto l'ha guardato l'ha spinto e poi è andato questo è fallo netto si tiene la spalla Luca è stato colpito e toccato lì vediamo Gigiodon pronto a riprendere il gioco guarda guarda i nostri ragazzi i nostri tifosi guardali belli carichi belli vivi al fianco della loro squadra Pasalic poi Lapadula forse commette fallo non si gioca si ha dato fallo ha dato fallo prima prima per il fallo di Lapadula su Chiellini però pensavo di essere la regola del vantaggio non è la palla di bala Marchisio se la porta in avanti Marchisio poi la tocca ravvicinata Chiellini Chiellini la restituisce a Marchisio avanza Chiellini palla dentro ancora per Chedira 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 attenzione Di Balla Di Balla ruba il tempo a paletta Evra gol fuori gioco fuori gioco ma com'è che aspettano sempre l'ultimo secondo per fischiare fuori gioco fuori gioco ma sono in quattro ma perché aspettano così tanto sono in quattro sono in quattro in fuori gioco dicono anche di no sembra il fuori gioco di Siena dell'Inter nel 2009 sono in quattro palla lunga di Gigio Dong dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi andiamo alza Bertolacci andiamo Suso è stanco ragazzi è a tutta la nostra solidarietà e tutta la nostra vicinanza Chedira palettone mette il piedone palettone Suso Suso Evra 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 sta sta venendo fuori per la stanchezza di Suso Luca mi fa paura questa cosa Lemina 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 la mette in mezzo è nostra ragazzi andiamo a chiudere Matti ecco che dire in anticipo momento Juve attenti a Evra che si inserisce Evra si sente meglio adesso attenzione Paletta la toglie la toglie Paletta angolo Juventus c'è questo problema prima per tutta la partita la Juve ha avuto il problema Suso adesso avevamo noi il problema Evra perché Evra sta capendo il momento di comprensibile calo fisico di Suso ha capito che Suso non ha finito tutte le energie poverino ha giocato tutta la partita da quella parte l'ha ammazzato e giustamente Evra si è riposato tutta la partita battuto l'angolo colpo di testa alto colpo di testa Rugani alto colpo di testa Rugani alto tutti tesi su tutte le due panchine su tutte le due parti a tribuna d'onore qui è andato Mattia a immolarsi su Rugani è stato bravo l'ha presa lui l'ha ostacolato è stato bravo bello vedere i tifosi cantare e fremere d'emozione per la loro squadra Bacca Bacca Locatelli Abate i nostri giocatori che sono usciti cammin facendo palla lunga di Gigiodon vediamo Jack Bonave la mette giù palla lunga di Luca Antonelli la vuole la Padula colpo di testa di Rugani arriva Jack arriva Jack bravo Jack era una bella idea per Pasalic ma loro loro riescono a inserirsi attenzione alla partenza di quest'azione che non mi piace Di Bala Di Bala la larga per Iguaini Iguaini attenti a Lemina ragazzi attenti a Lemina attenti a Lemina bravo attenti a Lemina palla fuori Lemina era solo sul secondo palo sull'1-1 di Doha anche inquadrati anche i loro usciti Pjanic Alexandro vediamo Luca Antonelli inquadrato qui c'è Vincenzo Montella qui c'è tutta la voglia che abbiamo sia noi che loro veniamo Gigio Donnarum pronto a rinviare limite dell'area piccola lancio lungo Gigio balza di testa Rugani alla meglio Andrea Bertola Pasalic parte da dietro ancora al Milan Palettone Palettone vede Lucchino Antonelli lo serve peccato che qui la Padula era dietro la Padula era dietro Chiellini la Padula era dietro deve cercare di giocare il più avanti possibile Luca deve cercare di non farsi anticipare anche perché è l'unico terminale offensivo che abbiamo è arrabbiato e teso Allegra è teso è teso e basta arrabbiato no perché comunque di fronte a un Milan così non è neanche facile giocare sinceramente Paletta questa palla è controllata da Evra la rimessa con le mani è bianconera vediamo Marchesio 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 avanza Marchesio l'oppressa Kucca ha ritardato tutta la sua azione Marchesio ha difeso palla viene in mezzo al campo a giocare Chedira ancora Evra Evra la lascia di bala di bala parte dai 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 è una bella palla quella una bella palla Lapa 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 la dà indietro Milan che rifiata Andrea Bertola qui è scienza Milan per il momento vediamo se riusciamo a far partire poi un'azione importante Andrea Bertolacci Andrea Bertolacci la tocca ravvicinata dalle Sietto Romagnoli ancora Andrea Bertola palla dentro per Jack Jack ha guardato subito come era il panorama in avanti tende sempre a guardare in avanti Jack peccato qui peccato qui esattamente a metà fra Pasa dice Antonelli questa strada si metà strada quadrato Antonelli quando ci avviciniamo al centoventesimo attenzione Di Balla Di Balla la lancia in avanti grande difensiva Mattia Sumanzukic bravo Antonelli grande giocata Luca bravo Pasalic cavallino croato ne escono bene bravi 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 vai Pasalic ah è la seconda che mi perde con le mina Dio mio non così Pasalic non così non così è la seconda che perdiamo dalle mina così attenzione brutta palla persa Luca Paura Luca Paura che dira che dira Evra era di rigore Evra la mette in mezzo Paura ah meno male meno male meno male Luca alta grande occasione di Balla non dobbiamo perdere quelle palle a centrocampo non dobbiamo perdere così malamente le palle a centrocampo lui doveva portarla avanti di lato coprendola coprendola così la scoperta e le mina e poi ci prendono in contropiede perché perdendo la palla lì a centrocampo vediamo Donnarumma pronto a riprendere il gioco extra time door ragazzi extra time door extra time door c'è anche un tifoso del Real un tifoso dell'Inter vabbè ce n'è per tutti i gusti abbiamo visto fra i tifosi balza di testa di Steiner Lapa il tiro voleva sorprendere Buffon buonaventura la palla controllata dal portiere da Juventus vediamo allora Rugani Rugani che si appoggia Marchisio forza Milan a Doha alto forte chiaro però attenzione Marchisio palla per Higuain Higuain ha dietro di Serro Magnoli la porta indietro Higuain Higuain ha quasi avuto un atteggiamento risentito spazientito eh sì non si è mai riuscito a girare Higuain mai l'unica volta che si è riuscito a girare è quando ha tirato sul su Donnarumma Chiellini Leminali Steiner vediamo ancora Chiellini finisce il secondo tempo supplementare in attacco la Juventus Evra supera Kuczka ho paura Evra Evra la mette in mezzo Lemina attenzione ragazzi vi prego attenzione Marchisio sta attaccando con tanti uomini la Juventus Higuain fuori sta portando su tanti uomini la Juventus fuori gioco Luca era fuori gioco era fuori gioco Luca però c'erano quattro giocatori della Juve non so se era fuori gioco sai non so se era fuori gioco chiude gli occhi Higuain mentre ci avviciniamo al minuto 120 quello fatidico quello dopo il quale ci sono i rigori palla lunga di Gigiodoni colpo di testa di Lemina va nello spazio Kuczka perché perché questi rimpalli qua non ci dicono mai bene Luca perché perché non siamo decisi gli è rimasta sotto la sotto la suola Luca avanza Evra avanza Evra inseguito da Suso Chedira qui dovevamo mangiarci l'erba andare pancia a terra in avanti Rugani Rugani la tocca dentro per Marchisio Marchisio la porta dall'altra parte per Evra attenzione ragazzi attenzione che Evra va al cross attenzione Alessietto Kuczka di testa Di Balla Di Balla ci porta via il tempo Di Balla rinimporta bravo Gigio grande Gigio è nostra è nostra è nostra bravo rinvio dal fondo grandissimo Gigio grande azione di Di Balla ma grande Gigio Donnarumma Luca eh sì ha scelto il tempo giusto per uscire e gli ha tirato addosso bravo Gigio si va verso il minuto 120 dopo il quale c'è il salto nel buio dopo il quale c'è il salto nel buio dei calci di rigore vediamo la palla lunga di Donnarumma in lancio lungo balza di testa Giurai la Padula prova a prenderla ma arriva prima Chiellini in vantaggio De Sciglio la prende di testa Chedira Chedira contro Suso Chedira la porta indietro guarda l'orologio l'arbitro da Matto Chiellini Chiellini Rugani avanza Lugani taglia il campo colpo di testa perché perché lì perché lì ragazzi perché avanza l'olore avanza l'olore è finita è finita gliela tira contro anche rigore è finita si va ai rigori D'Amato rifiuta le proteste dei giocatori bianconeri rifiuta guarda riguarda guardali 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 rifiuta le proteste D'Amato ammonito Higuain ammonito Higuain gli ha detto fai il fenomeno tra poco ce lo faranno rivedere vediamo era a un centimetro era come gli ha tirato addosso ma il braccio l'ha attaccato ma cosa vuoi ma cosa vuoi se lo taglia ma cosa vuoi gliela hai tirato addosso dai su l'hai tirata tu apposta addosso ma è perché sanno che era l'unico modo per fare gol al Milan guardali guardali vanno a protestare solo perché gli dice Buffon che si fa così guardali senza nessun contenuto nessun riferimento Luca siamo arrivati ai rigori tu cosa fai tu cosa fai non lo so io cosa faccio andiamo avanti andiamo avanti ma volevo sapere da Luca Antonini che cosa fa meglio non dirlo meglio non dirlo meglio non dirlo vediamo calci di rigore a Doha dopo 120 minuti dopo 120 minuti di Milan soprattutto poi anche la Juve per carità ha avuto le sue occasioni insomma nel finale la palla di Dybala è venuta fuori la Juve noi quando è è calato per stanchezza Suso non abbiamo più avuto molte soluzioni offensive nel secondo supplementare Luca sì soprattutto sì hai detto bene nel secondo supplementare è mancato è mancata la la frizzantezza di Suso è venuto fuori un po' un po' Evra che è andato in gol in fuorigioco e ha avuto più di una di una bella palla per per mettere in porta i compagni allora Luca primo tempo regolamentare meglio la Juve all'inizio poi noi primo tempo regolamentare equilibrato un po' più Juve secondo tempo regolamentare Milan primo supplementare Milan secondo supplementare Juve è così? sì sì esatto hai detto bene certo è che certo è che abbiamo avuto delle occasioni pazzesche questa è pazzesca questa lì bisogna buttarla dentro ragazzi Buffone era già proteso in tuffo perché pensava che Bacca tirasse subito ma non si capisce perché abbia voluto stoppare la palla lì bisogna andare subito e fare cose importanti subito insomma un 1-1 che conferma l'avevamo detto Adriano Gagliani l'aveva detto fino alla noia noi non siamo mai stati messi sotto dalla Juve nel 2016 2-1 Juve San Siro risultato equilibrato di misura l'avevano andati in vantaggio noi 1-0 ai supplementari in Coppa Italia 1-0 per noi in campionato San Siro e adesso 1-1 insomma nello scontro diretto siamo sempre molto vicini noi alla Juventus Luca sì sì sicuramente sì ma io ti dico la verità questa sera Milan con le occasioni soprattutto ha meritato di avrebbe meritato di portare a casa la Coppa nei 90 minuti e quindi questa è un'altra grande occasione queste sono le loro occasioni nel finale della Juve vedi con Evra che è stato addormito per tutta la partita a guardare a guardare Suso e è venuto fuori negli ultimi minuti del secondo superlontario se uno va vicino all'area guarda il braccio dell'avversario gli tira contro ma no ma poi Decidio cosa deve fare se lo deve tagliare il braccio è attaccato al corpo gli tira addosso ma loro qualcosa si devono attaccare a me se vedi come vedi come Evra guardava il braccio guardava il braccio di Decidio cioè Evra non ha crossato ha voluto mettere questo braccio ma perché lì non poteva più fare niente eccoci eccoci qua è il momento topico tira prima la Juve inizia la Juve tira prima la Juve dai Gigio Donnarumma concentrati e cattivi Donnarumma concentrati e cattivi vediamo si abbracciano i nostri si abbracciano si abbracciano l'abbiamo l'abbiamo detto l'abbiamo ripetuto hanno dato tutto quello che avevano cuore anima la cattiveria giusta non sono stati tanto tanto cattivi sotto porta purtroppo ha fatto sì che si arrivasse all'1-1 perché a livello di occasione il Milan ha avuto ne ha avuto veramente tante è stato in una bravissimo buffone nelle altre poco fortunate Luca Antonini con noi Rigori a Doha Supercoppa decisa dai fili dal dischetto Marchisio contro Donnarumma Marchisio contro Donnarumma gol questo è imparabile un vantaggio alla Juventus rincorsa strana di Marchisio dritta dritta e poi ha tirato di collo esterno freddo glaciale vediamo la padula contro buffone para buffone parte subito male la serie dei rigori c'è qualcosa che ci dice male sui rigori troppo centrale ha fatto la finta poi non l'ha angolata Manzukic contro Donnarumma Manzukic contro Donnarumma vediamo Manzukic si ecco si si dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi torna Capochino Manzukic che ha tirato la botta ha tirato la botta e gli è andata sulla traversa San Gioan Buonaventura contro Donnarumma Buonaventura contro Donnarumma Lucchino dai Jack dai Jack dai Jack dai Jack Buonaventura contro Donnarumma attimi di tensione di attesa Jack si prende tutto il tempo gol siamo pari Lucchino dai gol dopo due rigori siamo pari Lucchino dai freddo Jack preciso glaciale Jack si è preso tutto il tempo si 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 l'arbitro ha cercato di destabilizzarlo sposta il pallone di qua sposta di là sposta anche gli altri il pallone il gol Higuaín Higuaín contro Donnarumma Gigi è di Napoli Higuaín contro Donnarumma Higuaín contro Donnarumma guardalo Gigi gol segnato Higuaín aveva anche zappato per terra vediamo eh aveva preso la terra ragione Lucantorini loro tirano forte eh eh sì loro non piazzano tirano andiamo al dischetto Cucca Cucca Luca non fare così Cucca Cucca gol sì gol grande giurai anima cuore giurai dopo tre rigori siamo pari Luca dopo tre rigori siamo pari Luca Bacchidira Va a che dire Lotta Luca, lotta Va a che dire Loro Loro tirano potente Tirano potente Tirano potente Ancora in porta Buffon Grandi sospiri, grande tensione Suso Suso, non fare così Luca Suso Sì Centrale Luca, bravo Centrale Luca, Jesus Fernandez Saez ha fatto gol, se lo meritavo dopo una partita Meravigliosa, meravigliosa Meravigliosa Dopo quattro rigori siamo pari Di bala La didi di bala con la didi di Donaluni Sereno Montella Vai Gigio Vai Gigio Grande Gigio Luca ha paura Luca ha paura Luca ha paura Luca lo sai cosa succede Lo sai cosa succede se segniamo Luca 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 Che vinciamo Mauro, che vinciamo Lo sai cosa succede se segniamo Luca Perché San Giovanni non vuole inganni Il cavallino croato Il cavallino croato contro Contro Buffon Il cavallino croato contro Buffon Anche lui dall'est europeo Il cavallino croato contro Buffon Luca 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 Sì Luca Abbiamo vinto Luca Gladi Cos'è tale Luca? Cos'è tale Luca? Cos'è tale Luca? Luca Dai Lo diciamo sette volte Luca Sette volte Super campioni d'Italia 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 Luca Siamo felice Luca Luca Siamo felici Buon Zattane Buon Zattane La di di Tonnarumbo contro la di Titibana La grande Anima Siccio La grande Anima Siccio Luca Luca A Roma nel 73 ha segnato prima la Juve i rigori abbiamo vinto noi a Washington nel 2003 abbiamo segnato prima noi e la Juve ha vinto i rigori quando segna prima la Juve poi i rigori vince l'altro abbiamo vinto noi lo sapevo lo sapevo lo sapevo piangi Manuel abbiamo tutti voglia di piangere meritata meritata 29 presidente Berlusconi 29 presidente se la tenga stretta presidente se l'è meritata se l'è voluta il suo Milan ha vinto il Milan di tutti noi abbiamo vinto in faccia la Juve guardandola dritta negli occhi abbiamo vinto giocando costruendo vivendo Pasalic come Sheva Pasalic come Sheva siamo vivi siamo al Milan piangete ragazzi perché è bello il Natale Merry Christmas and Happy New Year la 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 abbiamo vinto noi sì quelle facce lì abbiamo vinto noi abbiamo vinto noi torniamo insieme in aereo a loro ragazzi guardiamoli dritti negli occhi più belli noi abbiamo vinto noi meritato noi gioia per noi sì Luca mamma mia che emozione che emozione come se avessi giocato la partita con loro sì Luca è vero hai lottato li hai spinti è stato a loro fianco Talismano Antonini lo sapevo come con Genoa come a San Siro Locatelli cantate ragazzi siete belli come il sole è la cosa più bella e naturale del mondo quando vince il Milan è la cosa più bella andiamo ragazzi viviamo il rosso nero è bello il ventinovesimo super campioni d'Italia il Milan grandi ad esultare tutti insieme questo è il Milan Luca abbiamo vinto siamo felici buon Natale Luca buon Natale a te Mauro buon Natale a questi ragazzi che si sono fatti un grandissimo regalo se lo sono meritati col cuore ci hanno creduto fino alla fine chiedo alla regia se aspettiamo il trofeo chiedo alla regia se aspettiamo l'alzata della supercoppa la padula che grande gioia ragazzi nel modo più bello nel modo più vero nel modo più rosso nero di tutti l'abbiamo vinta noi andiamo avanti fino all'alzata del trofeo Lucchino non piangere Lucchino mamma mia vivitela Lucchino vivitela Lucchino ce la merita anche il dottor Galliani si merita questa tutti ce la meritiamo questa coppa tutti ce la meritiamo questo è il nostro Milan avevamo voglia avevamo voglia di sorridere di sprigionare la nostra gioia di essere noi stessi abbiamo vinto ragazzi siete andati là un giorno dopo anche in ritardo ma noi non siamo i brutti natroccoli noi siamo il cigno rosso nero noi siamo il cigno rosso nero arriviamo dopo va bene ci date 24 ore a terra va bene tanto prima o poi arriviamo eh abbiamo vinto noi mister basta eh mamma mia abbiamo vinto noi l'abbiamo vinta noi l'abbiamo voluta noi l'alziamo noi la supercoppa di Lega la settima la settima tutti con gli occhi lucidi tutti solo noi nell'anima sappiamo quanto abbiamo sofferto è da tanto quanto l'abbiamo voluta Luca è da tanto che il Milan meritava di Luca tu eri a Pechino e li stavi aspettando bravissimo è vero è vero se lo meritano questi ragazzi sono contento vedere le lacrime di di Roccateli mi fa mi fa commuovere tantissimo perché è un ragazzo giovane che alza alza questa coppa è troppo troppo bello può vedere il dottore se lo merita la vittoria di tutti grandi c'era Claudio Lippi a alzarla a Pechino Claudio che è qui con noi ad alzarla anche stasera in questa grande grande gioia rossonera meritata bravo Buffon che va a fare i complimenti grande sportivo grande uomo Buffon che ha vinto tanto che continuerà a vincere questa questa viene a farci i complimenti senti lui e lo fa a testa alta da grande uomo di sport Luca beh con questo dimostra sempre di essere un grande un grande uomo un grande uomo in tutti i sensi chapeau a Gianluigi Buffon che va a testa alta da grande campione a salutare i nostri giocatori mamma che gran rigore un uomo dell'est Luca che gran rigore come sceva un uomo dell'est come sceva a Manchester sembrava non entrare mai la gioia natale la gioia più bella la gioia più bella sotto l'albero la supercoppa dei milanisti la supercoppa della bellezza la supercoppa della gioia la supercoppa del Milan guardali guardali che si abbracciano guardali i nostri ragazzi sono andati a Doha in ritardo sono andati a Doha spernacchiati sono andati a Doha i pesi ma hanno lottato hanno dato l'anima sul campo e hanno vinto ce la sono ce la sono meritata sul campo prima e rigori stati freddi glaciali questo ragazzo qua Donnarumma mamma mia non ci sono parole un ragazzo d'oro d'oro abbiamo iniziato a vincere supercoppa italiana nell'89 sì sì grande Sergio certo che sì Sergio Sergio era Manchester Sergio era Manchester nel 2003 Sergio era Manchester Serginio Adriano Galiani Rocco Maiorino Maiorigno con Serginio si abbracciano vivono amano il Milan tutti noi amiamo il Milan sì ragazzi sì sì i sorrisi più belli di tutti tutte le persone di Milan TV tutte stanno godendo stanno esultando stanno sanno che durante il giorno di Natale avremo tutti quell'espressione un po' così quell'espressione sorridente un po' evete dentro la quale c'è la supercoppa c'è la nostra vittoria i supercampioni d'Italia il titolo 2016 2017 il primo titolo della stagione è del Milan la C Milan di Milano sette volte campione d'Europa è andata a vincere a Doha è andata a vincere nell'Emirato contro la Juventus come a Manchester nel 2003 Cucca tutti devo dire che oggi tutti hanno dato l'anima non c'è ci sono tanti migliori in campo Vincenzo Montella ha costruito insieme a Rocco Maiorino insieme a tutto il Milan insieme a tutta la squadra tutta la società tutti questi ragazzi qualcosa di bellissimo il Milan è bello vederlo come si muove sul campo si 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 gioca davvero bene ha uno spirito sono emozionato Mauro però devo dire che il Milan stasera ha fatto una grandissima partita ha meritato nell'arco dei 90 minuti di vincere questa Coppa però il calcio ha voluto che si arrivasse ai rigori e si vincesse lì ancora più proprio i rigori proprio i rigori in questo mese di dicembre allora va bene dovevamo sbagliare contro Crotone e Roma va bene va bene così per arrivare a vincere questa partita ai rigori va bene così va bene li abbiamo tenuti per do ai rigori Luca li abbiamo tenuti per do ai rigori Luca la parata di Donnarumma su Dybala mamma mia un airone si 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 un airone l'ha guardato fino alla fine un airone stiamo insieme fino alla Coppa Luca ti ricordi quella Supercoppa di Pechino con i postrini gialli dietro di voi me la ricordo mi ricordo come se fosse ieri com'è tornare con gli avversari sullo stesso aereo quando hai vinto ancora più bello lasciateci giù anche a Doha non ci interessa ci potete lasciare giù ancora rimaniamo in vacanza a Doha lasciateci giù tanto la Coppa resta con noi lasciateci giù anche a Doha tanto la Coppa resta con noi fra le nostre braccia nei nostri occhi nei nostri sorrisi perché questo è il Milan è la cosa più naturale del mondo quando vince il Milan c'è una squadra che la Juve al mondo soffre c'è una squadra il Milan non è l'Inter è il Milan ascolta me siamo noi perché sanno sanno che siamo vincenti come più di loro la Superquay abbiamo avuto anche quello che c'era stato negato a Roma nella finale di Coppa Italia Lucchino tutto abbiamo riavuto indietro tutto tutto che bello che bello che grandi che grandi che bello abbiamo vinto Lucchino Antonelli abbiamo vinto Jack Bonaventura tutti gruppo tutti squadra tutti ad esultare insieme chi gioca di più chi gioca di meno i titolari le riserve tutti a vivere tutti ad esultare tutti a a provare grandissime sensazioni nel petto perché è nel petto che batte il cuore è il cuore è il regno del Milan il presidente di Lega Beretta i rappresentanti della Qatar Football Association la Federcalcio Catariota la famiglia reale Altani ci viene a premiare tutti insieme alla fine è stata una parità corretta a parte qualche sì Lichsteiner va bene la gomitata Manzukic ogni tanto qualche trattina Manzukic quanto gliel'abbiamo chiamata la traversa Lucchino di la verità guardami in faccia quanto gliel'abbiamo chiamata se c'era meno male che non c'era una telecamera interna qui la produzione di Oneir che vive nell'anima Milan TV sarei dimenticata meno male perché se no se vedevano i nostri gesti quando ha tirato il rigore Manzukic non vedevamo più telecamere e microfoni per anni va bene e allora e allora ci sono i nostri i nostri ragazzi che vengono salgono dopo voglio vedere i lustrini Luca voglio vedere tutte le tutte le paillettes dietro i premiati voglio vedere qualcosa che ci mancava da troppo tempo troppo 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 tempo abbiamo ingoiato ingiustizie abbiamo ingoiato Magoni abbiamo vissuto sconfitte laceranti e prima o poi doveva finire e prima o poi doveva finire Donnarumma un portiere che inizia per D come Dida e Pasalic che viene dall'est come Sheva e Doha si tinge di Manchester non abbiamo vinto la Champions League ma in questo nostro periodo è come se lo fosse Luca sì sì decisamente decisamente Regione Mauro sta per arrivare il momento della premiazione chi alza chi alza c'è Abate c'è Pontolivo c'è De Sciglio il nostro capitano è il gruppo Luca il nostro alza tutto il gruppo il nostro capitano è il gruppo vediamo Buffon che conserva il sorriso santo cielo è primo in campionato è agli ottavi di Champions vincere anche il prossimo Scudetto ma sì è giusto che si conceda un sorriso anche se ha perso i rigori la sua propria italiana giustamente è venuto a salutarci in una maniera che mi ha fatto venire i brividi Buffon vabbè è un uomo è un uomo vero in tutti i sensi Gigi ha sempre dimostrato di essere un grande campione e i grandi campioni si dimostrano tali anche in queste situazioni la Juventus che dopo aver vinto campionato e Coppa Italia non ha vinto la Supercoppa di Lega e quel non è grande 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 Allegri anche lui è andato a salutare chi c'è chi c'è Lucchino nella squadra di quando c'era Allegri c'è De Sciglio C'è De Sciglio Abate Montolivo Montolivo va bene vediamo Rugani vediamo Rugani vediamo gli altri giocatori della Juventus fra poco l'alziamo Lucchino fra poco l'alziamo e quando l'alzeremo sembrerà Pechino e quando l'alzeremo sembrerà sembrerà Manchester sembrerà Atene sembrerà tutte quelle cose belle della nostra vita colorate di rosso nero sembrerà sembrerà che siamo tornati sembrerà che siamo belli come il sole sembrerà che siamo noi Luca siamo tornati noi siamo abituati a alzare qualcosa noi all'ultimo rigore all'ultimo rigore infatti quando ha detto quando D'Amato ha detto tira prima la Juve ho avuto un fremito Luca non per carità non si confessano quelle cose ho avuto un fremito a loro ho pensato l'ultimo è nostro e l'ultimo è stato nostro anche Allegri che è comunque uno sportivo a sua volta conserva la serenità eh? eh sì dai anche se dai Allegri che infondi con il cuore sei contento dai mister su dai eh via la verità sì magari sì dai in fondo in fondo in fondo sì è contento saltano i nostri ragazzi saltano i nostri tifosi non ci siamo sentiti in trasferta a Doha Luca? no assolutamente no guarda che bella guarda che bella sta arrivando Luca sta arrivando Luca adesso prima le premiazioni con la medaglia dei primi classificati dei super campioni d'Italia del 2016 ma Juventus aveva bisogno di un avversario in queste supercoppe l'ha trovato bello tosto e bello duro un grande avversario ha trovato un grande avversario guardali 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 me la voglio ricordare questa immagine Luca ce la porteremo dietro insieme a Gesù Bambino Gesù Bambino nelle nostre case può anche venire un po' in ritardo Babbo Natale Santa Claus be quiet be easy no problem noi abbiamo già avuto Luca abbiamo già avuto Luca abbiamo già avuto Luca abbiamo già avuto sta arrivando ripetiamo non è la Champions League ma è come se lo fosse è come se lo fosse la prima volta che il Milan vince una supercoppa o italiana o europea senza aver vinto il massimo trofeo cioè noi abbiamo vinto le supercoppe italiane sempre dopo aver vinto lo Scudetto e le supercoppe europee sempre dopo aver vinto la Champions League le supercoppe italiane senza aver vinto lo Scudetto non le abbiamo mai vinte anche le supercoppe europee senza aver vinto la Champions questa è la prima volta la prima volta nel 2016 nel Santo Natale nel Santo Natale Rossonero e che Natale un Natale meraviglioso Gigio Gigio fantastico Gigio che ha parato il rigore decisivo aprendo la strada è stato un rigore complicato quello di Pasali c'è l'incrocio Luca eh ha avuto fegato perché tirare l'ultimo rigore il decisivo guarda Gustavito Gomez che non ha giocato ma sorride tutti tutti ma quando vinci ragazzi poi questo questo mi sembra un gruppo vero ragazzi che si vogliono bene tutti lavorano tutti insieme lottano tutti insieme grande mister grandissimo mister è merito merito ci ha cambiati alle fondamenta è merito anche di di Montella l'alza bate l'alza bate l'alza ora bate Montolivo dopo tutto quello che hanno passato anche loro soprattutto loro insieme insieme vai vai che bella Igna alza la Igna alza la Igna alza la Igna alza la Igna vuole vicino a sé Montolivo Montolivo guarda che bello guarda che belle cose hanno sofferto insieme l'alzano insieme Luca hanno sofferto insieme e l'alzano insieme alzate la Capitani 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 l'abbiamo alzata guarda che belle le lustrine i paillettes di Doha sotto gli occhi del mondo una finale Juve-Milan è sempre qualcosa di europeo è sempre qualcosa di bello anche se ti giochi un trofeo italiano saltate e sorridete ragazzi è nostra non ce la toglie più nessuno è nella nostra bacheca è nel nostro cuore è nella nostra vita ciao a tutti 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 ciao a tutti